Al termine della 33esima conferenza internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nel corso dell'ultima giornata, che è caduta esattamente un anno fa, il 12 dicembre del 2019, la conferenza adottava due risoluzioni. La numero 7, intitolata Disaster Laws and Policies that Leave No One Behind, che potrebbe tradursi per un diritto dei disastri e per una policy sui disastri che non lasci nessuno indietro, e la numero 3, dal titolo Time to Act, Tackling Epidemics and Pandemics Together, che potrebbe tradursi è il momento di agire, affrontare insieme epidemie e pandemie. Lette insieme queste due risoluzioni confermano già il 12 dicembre del 2019. Da una parte il ruolo chiave della conferenza... Scusatemi, qualcuno ha condiviso il proprio schermo e gli chiederei di poterlo... Grazie. È successo nuovamente? Ok, vi ringrazio. Dicevo, queste due risoluzioni confermavano già il 12 dicembre del 2019. da una parte il ruolo chiave della conferenza ai fini del progresso del diritto internazionale dei disastri e più in particolare il ruolo delle società nazionali, il cui supporto su questi temi veniva specificamente sottolineato nell'ambito della risoluzione numero 7 e dall'altra parte riconoscevano come già appunto nel dicembre scorso come una delle aree di necessario sviluppo dell'International Disaster Response Law fosse proprio il fronte pandemico. Ricordavano che gli statuti del movimento di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa identificano le società nazionali come enti che cooperano con le autorità statali per la prevenzione delle malattie e la mitigazione delle sofferenze umane. Società il cui ruolo rispetto alle pandemie e epidemie veniva, citando uno dei primi considerando della risoluzione numero 3, riconosciuto con gratitudine. Dunque queste soluzioni non fanno altro che confermare quella che abbiamo scoperto essere la centralità dell'International Disaster Response Law rispetto all'odierna pandemia da Covid-19, offrendoci un quadro giuridico di riferimento o secondo un'opposta prospettiva confermando quanto il Covid-19 ponga delle questioni giuridiche di fondamentale importanza, alcune delle quali, le più pressanti, affronteremo oggi accompagnati dai relatori che gentilmente hanno accettato l'invito di Croce Rossa oggi. Prima però di presentarveli e dunque di cominciare con le loro relazioni, cederei volentieri la parola a Marzia Como, che vedo connessa, per i saluti di apertura. Marzia. Buongiorno a tutti, grazie Alice, grazie della parola. Benvenuti anche da parte mia e mio tramite da tutto il Consiglio Direttivo Nazionale per questa importante ulteriore attività di formazione e di aggiornamento di questo 2020. C'è particolare felicità pur in un momento così difficile, data dalla possibilità comunque di essere vicino a voi attraverso i mezzi tecnologici, che magari per noi di Croce Rossa chiamiamo molto la vicinanza fisica, non rappresentano il massimo possibile, ma rappresentano una opzione assolutamente determinante per comunque mantenere un contatto. Quindi un plauso davvero Alice, Giulio, alla Commissione DIU e anche il Comitato Scientifico e ai relatori. Un sentito ringraziamento per questa possibilità e occasione di ulteriore formazione ed aggiornamento. Io auguro a tutti veramente un buon lavoro e vi seguirò attentamente lungo tutto l'arco delle vostre relazioni e dei lavori di stamane. Grazie ancora davvero sentitamente da parte mia. Alice, a te la parola nuovamente. Grazie Marzia. Io a questo punto ri-cederei immediatamente la parola a Milena Cisilino, che vedo connessa fra noi. Presente, presente e anche io emozionata perché poco fa ci siamo salutati con i delegati tecnici regionali per ritrovarci con molti anche in questa nuova stanza, ma come Commissione Nazionale vedere proseguire l'attività di aggiornamento degli istruttori DIU specializzati in IDL, che sapete che è un settore che poi io personalmente seguo con particolare cuore all'interno dell'associazione e anche gli istruttori non ancora, perché sono ottimista, specializzati in IDL, è un bel vedere. Insomma, i numeri sono importanti, gli iscritti rasentano quasi 150 istruttori, poi avremo anche la partecipazione degli esterni. Vedo che non tutti si sono ancora collegati, ma confido lo faranno. Andiamo avanti, alziamo la qualità della nostra formazione personale, così saremo più efficienti e più incisivi sui nostri territori, che è il mandato del piano di azione della Croce Rossa italiana. Quindi usiamo questo tempo di apparente parcheggio per rinforzare i muscoli della nostra futura azione territoriale. Quindi grazie anche da parte mia a tutti i relatori e al comitato scientifico che in sinergia con la Commissione nazionale si sta mettendo in movimento e in gioco per essere sempre più pronto alle risposte, a dare risposte alle istanze del territorio. Buon aggiornamento a tutti. Porto anche i saluti del delegato nazionale dell'area emergenza, Alessandro Brugnialti, che in questo momento sta appunto facendo emergenza e quindi non ha potuto collegarsi a significare il collegamento stretto che c'è tra istruttore DIU formato in IDL e la formazione del settore emergenza. Quindi non dimentichiamoci questa trasversalità che andrà sempre più a rinforzarsi. Grazie mille Milena. A questo punto direi di dare avvio ai nostri lavori con la prima relazione. Il primo relatore di oggi è il dottor Danilo Bilotta, funzionario del Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Relazioni e Attività Internazionali. Il dottor Bilotta ha una profonda esperienza tanto teorica quanto professionale sui temi oggetto del nostro webinar odierno ed è un amico di vecchia data, direi, degli studiosi italiani che si occupano di diritto internazionale dei disastri. E gli cedo volentieri la parola per il suo intervento sull'esperienza italiana nella gestione transnazionale dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Grazie Danilo. Grazie Alice della parola e buongiorno a tutti. Volevo intanto ringraziare Croce Rossa Italiana per l'invito rivolto al Dipartimento della Protezione Civile a partecipare a questo importante evento di oggi e in particolare voglio oggi un ringraziamento personale al dottor Giulio Bartolini per questo invito al Dipartimento per condividere, diciamo, direi ancora a caldo alcune prime riflessioni su questo periodo difficile e complesso che stiamo vivendo e in particolare con riferimento alla prima fase emergenziale, quella iniziata diciamo nel marzo scorso e dico a caldo perché appunto sebbene siano, insomma, sono passati circa 8-9 mesi, diciamo l'emergenza è tutt'altro che conclusa, come sapete bene, e quindi diciamo abbiamo avuto modo di fare alcune riflessioni, ma questi che condividerò con voi oggi sono ancora delle riflessioni preliminari. Nell'ambito appunto del tema che mi è stato assegnato volevo soffermarmi, quindi nel quadro, insomma, di questa gestione trasnazionale dell'emergenza Covid sul tema dell'assistenza internazionale ricevuta e, diciamo, più delle volte richiesta. è un inciso che poi magari spiegherò meglio dopo perché è subito sul tema, strettamente connesso a quello della richiesta di assistenza internazionale, di quello che, diciamo, nel gergo eurocratese di Bruxelles è noto come host nation support, quindi tradotto nella normativa italiana, diciamo, sia, insomma, nella traduzione italiana della decisione 13-13-2013 che regola, come ci diranno dopo, insomma, gli integratori, il meccanismo unionale di protezione civile, ma anche recepito nel nostro codice di protezione civile come supporto della nazione ospitante. Quindi tutte le attività che, diciamo, la nazione ricevente mette in atto per facilitare l'ingresso e, diciamo, il despiegamento sul territorio degli aiuti internazionali. E parto col dire che questa che abbiamo vissuto è stata una situazione senza precedenti. Quindi, sebbene il nostro sistema fosse preparato da anni e, appunto, tutto ciò si ripete anche nel nuovo codice della protezione civile a ricevere aiuti internazionali, lo avevamo sempre fatto con un certo scenario in testa, che era quello scenario, diciamo, legato alle emergenze e i disastri che abbiamo conosciuto negli ultimi trent'anni di protezione civile. Invece c'è arrivato addosso proprio uno tsunami, un evento che, seppur, appunto, come, diciamo, nella comunità internazionale è stato più volte evocato come questo grey grind, no? Il rinoceronte grigio, quindi qualcosa che, in realtà, la comunità internazionale sapeva che potesse accadere, quindi non si trattava di un black swan, un cigno nero, sempre con riferimento a una letteratura, diciamo, anche non del settore, ma qualcosa su cui avevamo riflettuto e su cui la comunità internazionale si è più volte interrogata. Ecco, e allora passo a illustrare alcune osservazioni preliminari attraverso l'ausilio di alcune slide che mi facilitano un po' il compito in questi 15 minuti. Ecco, dovreste potervi vedere. Bene, quindi partirei proprio dal riferimento del Codice della Protezione Civile, quindi a questo tema della richiesta di assistenza internazionale che si ritrova nell'articolo 8, dove fra le funzioni del Dipartimento della Protezione Civile, di cui appunto si fa il Presidente del Consiglio per svolgimento di tutta una serie di compiti che sono illustrati in quell'articolo, si parla espressamente anche alla letteraria della formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione Europea e alla comunità internazionale per integrare l'intervento del servizio nazionale e del coordinamento in capo al Dipartimento che qui rappresento del supporto in qualità di nazione ospitante proprio conformemente alla decisione sul meccanismo unionale di protezione civile. E quindi, diciamo, a questo quadro apparentemente lineare poi si sovrappone il modello organizzativo per la gestione di questa emergenza sanitaria che deriva appunto dalla dichiarazione di stato di emergenza contenuta nella delibera del Consiglio dei Ministri di gennaio. quindi a ridosso della dichiarazione dell'OMS della pandemia. Quindi subito con la dichiarazione di emergenza di fine gennaio si è delineato un modello organizzativo ben preciso che è quello sostanzialmente di un Servizio Nazionale di Protezione Civile che si mette a supporto del Servizio Sanitario Nazionale così come previsto sempre dal codice, dall'articolo 16 e su richiesta proprio del Ministero della Salute. Quindi si legge nella delibera del Consiglio dei Ministri che appunto il Ministero della Salute ha chiesto di procedere una dichiarazione di stato di emergenza nazionale mettendo quindi le basi per una mobilitazione del Servizio Nazionale in base a una dichiarazione di stato di emergenza quindi riconoscendo l'evento della pandemia che in quelle fasi era ancora molto iniziali come un evento di tipo C quindi una catastrofe che necessita di un coordinamento a livello nazionale e il modello di intervento che è stato messo in atto è proprio quello tipico degli eventi di protezione civile quindi un intervento che conoscete probabilmente insomma questa platea conosce per essere un intervento diciamo basato su un metodo Augustus quindi sul principio della sussidiarietà e con l'unica forse eccezione in questo caso dell'affiancamento al capo del dipartimento e quindi al comitato operativo vertice di questa gestione emergenziale di un comitato tecnico scientifico di cui avete sicuramente letto o comunque insomma che avete imparato a conoscere in questi mesi per il resto l'attivazione del modello è quella tipica dicevo di un intervento di risposta a un disastro naturale quindi con l'enorme differenza però di un modello che si dispiega sull'intero territorio nazionale quindi con l'attivazione di 56 CCS 4.287 COC quindi centri operativi comunali e quindi una differenza fondamentale rispetto agli interventi che abbiamo condotto diciamo negli ultimi 20-30 anni di protezione civile di un'area colpita che non è una porzione del nostro territorio ma l'intero territorio nazionale comunque sicuramente in quella fase con un'area più colpita delle altre la Lombardia e poi l'intero nord Italia ma comunque un'attivazione di misure di contenimento sull'intero territorio nazionale dunque questo approccio è un approccio che sembra del tutto lineare come dicevo lineare è la decisione di attivare il servizio nazionale a supporto del sistema sanitario nazionale questo modello però diciamo entra in crisi per la progressiva regionalizzazione dell'emergenza Covid-19 cosa intendo per questo? una regionalizzazione che diciamo in qualche misura corroborata anche dalle scelte legislative del governo e che trova una sua conferma proprio nel decreto legge e passo quindi rapidamente ad una cronologia degli eventi che diciamo del decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020 che cristallizza sostanzialmente questa regionalizzazione del sistema di risposta e apre il barco diciamo a un numeroso a un profubio di atti di rango anche sub-legislativo che hanno in qualche misura incrinato io direi rimediabilmente questa linearità quasi gerarchica dell'intervento tipico di protezione civile e in questa cronologia si inseriscono si inseriscono appunto le richieste di assistenza internazionale che sono state fatte alla comunità internazionale sulla base degli articoli che ho citato prima quindi il 26 febbraio 2020 c'è la prima richiesta di assistenza internazionale attraverso il meccanismo europeo di protezione civile per la carenza di dispositivi di protezione individuale quindi in particolare si chiedono mascherine FFP2 e FFP3 questa richiesta di assistenza internazionale viene poi ampliata a metà marzo con due successivi ampliamenti il 13 e il 17 di marzo chiedendo appunto un 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 appiamento del come dire delle tipologie di dispositivi di protezione individuale quindi vanno dai camici alle visiere i caschi ai ventilatori i kit di amniosto l'ossigeno insomma in quella fase c'era una carenza in quella fase che voglio ricordare insomma ha assunto anche tratti drammatici se ricordate anche nuove immagini di queste interviste subito fuori proprio dal dipartimento della protezione civile con i ministri con consigli dei ministri che si sono tenuti diciamo comunque in unione di ministri che si sono tenuti proprio a fianco del comitato operativo e diciamo un appiamento ancora maggiore di questa richiesta di assistenza internazionale il 19 di marzo quindi con la richiesta invece di medici e infermieri specializzati in particolare personale medico che potesse assistere diciamo quindi anestesisti e intensivisti la situazione diciamo della richiesta di assistenza internazionale rimarrà aperta per tutti i successivi due mesi fino diciamo a quando poi nel maggio ci saranno le prime riaperture e quindi un lento ritorno a una situazione diciamo gestibile con le risorse diciamo con le risorse in nostro possesso e quindi una chiusura della richiesta di richiesta internazionale al meccanismo europeo di protezione civile e al comitante nazionale tutta del 22 maggio 2020 e in questo quadro e dal punto di vista più strettamente diciamo di mia prospettiva quindi da addetto ai lavori diciamo l'operatività del quali sono diciamo le ricadute sull'operatività di questo tema della richiesta di assistenza internazionale dicevo in apertura una situazione senza precedenti un'ampiezza dell'assistenza diciamo anche dal punto di vista territoriale geografico quindi tante richieste provenienti dal territorio quindi la difficoltà anche di prioritarizzare questi interventi una pluralità di canali di offerta per cui noi ci siamo rivolti al meccanismo europeo di protezione civile dicevo prima che non ha dato le risposte che cercavamo e questo cioè va detto apertamente nel senso che in un primo momento quando avevamo c'era proprio l'impressione che la pandemia fosse un discorso nostro non si è sentita diciamo subito questa presenza anche della 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 Commissione europea e proprio per la difficoltà anche di reperire questi questi beni sul non solo su diciamo negli altri paesi ma sul mercato internazionale e quindi la difficoltà anche dei governi a dare questa questa con atti di solidarietà questo materiale un tema che conosciamo bene perché è proprio quel tema che si è cercato di affrontare attraverso il rescue e attraverso il puro europeo di protezione civile che penso forse saranno temi che saranno toccati dagli altri relatori e nel caso per esempio del rischio incendi boschivi si è fatto dove c'è questo stesso problema in estate si è fatto fronte appunto attraverso l'intervento diciamo sopranazionale quindi una pluralità di cani di offerta dicevo l'Unione Europea il WHO quindi l'IMT Initiative quindi l'European Medical Teams Initiative Rapporti biraterali il tema dell'autosufficienza di questi team o diciamo opposto diciamo all'idea invece di integrare questi team medici nei nostri ospedali nelle nostre aziende sanitarie locali e poi anche da ultimo forse il tema più diciamo più problematico dal nostro punto di vista quello che si 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 ritrova appunto trova riscontro proprio in quella questione della regionalizzazione che dicevo del modello di risposta all'emergenza cioè una pluralità di attori richiedenti quindi non solo il Dipartimento della Protezione Civile come espressione del Presidente del Consiglio dei Ministri ma anche le regioni il Ministero Affari Esteri attraverso la rete diplomatica e addirittura le strutture sanitarie stesse quindi attraverso rapporti con gli ospedali stranieri attraverso appunto attività di ricerche comuni quindi diciamo questo tutto questo in un'ottica voglio essere chiaro assolutamente di totale interesse del Paese cioè ciascuno cercava di fare la sua parte nell'ottica appunto di risolvere quella problematica contingente in quei momenti così drammatici quindi ciò nonostante e poi c'è tutto il discorso della solidarietà internazionale quindi l'affilato solidaristico che è seguito a quella prima fase in cui si diceva che in cui dicevo appunto che non era stato possibile dicevo un riscontro immediato alle nostre richieste di assistenza da parte dell'Unione Europea quindi paesi come gli Stati Uniti d'America la Federazione Russa che in quel momento non erano toccati in maniera così devastante dall'emergenza la Cina stessa che diciamo grazie a un potenziale enorme poteva comunque anche andare e dopo aver affrontato una prima fase molto difficile poter andare a dare assistenza ma anche paesi che semplicemente vogliono ritornare i nostri diciamo la solidarietà internazionale ricevuta in altre occasioni in il mio previso di Albania che solo un anno fa aveva appunto poco prima dell'esposizione della pandemia aveva ricevuto l'assistenza da parte nostra a seguito del terremoto che c'era stato a Durazzo e insomma che aveva colpito diciamo l'intera Albania e poi dicevo anche l'attivismo delle regioni quindi in regione Lombardia sono arrivate ben nove squadre internazionali per un totale di 310 operatori di cui 214 sanitari in un periodo che va da marzo da metà marzo a metà aprile e poi un'altra problematica è stata quella appunto di risettare le nostre conoscenze e la nostra preparazione rispetto a una standardizzazione dei team medico-sanitari che diciamo ha interessato diciamo gli ultimi 10-12 anni diciamo da IT in poi questo sviluppo cioè dei moduli sanitari in maniera standardizzata quindi con l'Emergency Medical Initiative del WHO ma anche in ambito Unione Europea con un allineamento della classificazione dei moduli sanitari a quella dell'OMS poi c'è il sistema NATO e naturalmente quello della Federazione Internazionale di Croce Rossa che conoscete molto meglio di me e poi in questo ambito diciamo l'arrivo di un grandissimo numero di squadre internazionali qui avete un diciamo un resoconto sintetico con tutte le regioni che sono state interessate in particolar modo la Lombardia e parlo qui solo di squadre internazionali di squadre internazionali di medico sanitarie perché poi c'è tutta l'assistenza diciamo diciamo umanitaria se volete ma comunque di materiali materiali e strumentazioni medico-sanitarie che qui non ho riportato anche perché sarebbe complesso ritracciare tutto 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 il materiale e tutte le donazioni che sono state poi fatte non solo a livello centrale ma anche a livello locale e quindi diciamo per vado a chiudere parlando appunto di quello che sono poi gli elementi cardini proprio del tema host nation support quindi supporto della nazione ospitante che quindi ci hanno visto dover in una situazione in cui comunque con tutte le ristrettezze dovute a anche operative dovute alla diffusione del virus quindi l'impossibilità anche di muoversi sui diversi entry point dove da cui entravano le squadre internazionali al di là dell'aeroporto di Filomicino che siamo riusciti a presidiare diciamo centralmente ma poi sul territorio sono state diciamo le autorità locali a dare un supporto alle squadre che sono giunte in Italia quindi le questioni doganali il riconoscimento delle professionalità il tema delle assicurazioni i profili di responsabilità il supporto per l'interpretariato le metodologie di reportistica e poi l'ultimo ma direi in primis il supporto logistico per il trasporto l'alloggio e quant'altro in una situazione peraltro in cui erano stati chiusi tutti gli hotel e quindi sono stati poi riaperti ad hoc per queste squadre con tutte le misure di contenimento che erano necessarie ecco giusto per darvi due o tre elementi di esempio per esempio noi siamo stati anche nazioni di transito di beni per esempio Destina che per esempio in un caso che la Danimarca aveva inviato dell'assistenza umanitaria all'Albania si trattava nello specifico di materiale sanitario con anche dei venticatori questo materiale è transitato per l'Italia e per poi diciamo dove essere imbarcato a Brindisi se non ricordo male per Tirana e in quell'occasione i colleghi danesi non avevano considerato che in Italia questo materiale era diciamo c'erano delle disposizioni in vigore per cui questo materiale una volta il tratto in Italia non poteva più essere esportato perché è ritenuto un materiale diciamo critico quindi siamo dovuti intervenire con le autorità doganali per sbloccare questa situazione e poi questo materiale è arrivato a destinazione si potrebbe dire anche per esempio del team statunitense con di spiegato col Samaritan Purs diciamo accanto all'ospedale di Cremona dove c'era il problema di come far lavorare questi medici e se potessero diciamo se l'ospedale potesse lavorare diciamo in maniera integrata con l'ospedale locale proprio per questioni di profitti di assicurazione di responsabilità se dovesse essere considerato una struttura a parte e poi si è deciso di considerare una struttura a parte e per facilitare appunto la possibilità di utilizzare medici stranieri provenienti anche al di fuori dell'Unione Europea è stata inserita nel DL Cura Italia una misura che appunto consentiva l'articolo 13 di l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendo esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata alla specifica direttiva dell'Unione Europea quindi bastava presentare un'istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del paese di provenienza alle regioni o province autonome quindi anche qui una semplificazione diciamo della normativa sul riconoscimento delle professioni per superare un ostacolo e diciamo poi insomma per chiudere questa esperienza della locale delle regioni nell'accogliere queste squadre internazionali aggregando in più delle volte questi contingenti eccetto quindi questo caso di cui parlavo dell'ospedale statunitense decidendo di aggregare i contingenti nelle AS quindi nelle aziende sanitarie locali quindi a supporto dei medici locali quindi anche come dire per dare modo anche ai medici italiani di avere delle ore di riposo dei giorni di riposo in una situazione che ha messo tutto il sistema sanitario nazionale sotto forte stress poi ricorderete c'è stata anche tutta l'iniziativa ovviamente del tutta l'iniziativa della task force di medici e infermieri su tutto il territorio nazionale poi naturalmente in questo contesto non posso che ricordare il grandissimo sforzo del volontariato e in particolare di Croce Rossa italiana a supporto di questa emergenza non solo come presidi medico-sanitari ma anche di monitoraggio per esempio negli aeroporti nei porti eccetera quindi diciamo vado a chiudere perché insomma forse ho esaurito il mio tempo comunque diciamo su alcuni dettagli possiamo tornare ma voglio dire che in ultimo la chiusura che quello che abbiamo utilizzato quindi sono 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 è un modello che noi che è tagliato appunto sulle emergenze tipiche che il nostro paese ha vissuto negli anni quindi emergenze soprattutto naturali quindi terremoti all'invioni per la gestione di questa emergenza che invece è nata soprattutto con un'emergenza di carattere sanitario poi ovviamente sociale economica qual tra l'altro e che quindi guardando anche al quadro legislativo con questo insomma do la come dire la parla ai colleghi giuristi che hanno e potranno affrontare insomma alcuni di questi temi più direttamente forse dobbiamo domandarsi se ci sono le condizioni per rivedere alcune alcune diciamo coordinate della risposta alle crisi e questo è un tema che si è posto e chiudo anche a livello europeo anche a livello europeo quindi avviando anche una riforma ulteriore del meccanismo unionale di protezione civile che è in corso e per cui stiamo discutendo attualmente una riforma che adesso c'è stato un compromesso diciamo a livello si è trovata un accordo a livello di consiglio con il nuovo anno verrà avviato un trilogo quindi con parlamento e commissione per portare a termine il prima possibile probabilmente sotto presidenza portoghese questo negoziato e quindi a livello di Bruxelles c'è un discorso anche più globale di revisione anche di quelli che sono i cosiddetti IPC-RAR integri del Polite del Crisis Coordination Arrangements quindi il sistema di gestione delle crisi che non riguarda solo il settore umanitario e di protezione civile con anche delle proposte che sono state fatte attraverso un paper olandese condiviso anche dalla Romania e che guarda a un sistema di gestione delle crisi europeo più ampio di quello che conosciamo oggi grazie mi scusi se ho preso qualche minuto in più e Alice ti ripasso la parola rimango a disposizione poi per eventuali per eventuali domande insomma discussioni sì grazie mille Danilo questa tua presentazione veramente interessantissima e che direi tocca in qualche modo tutti e così lancia tutti molti dei temi che verranno discussi dai successivi relatori a proposito dell'ultima annotazione che hai fatto ho dimenticato di fare in apertura una nota metodologica e relativa alle domande se le domande che il pubblico che i nostri partecipanti avessero bene vi chiederei di scriverle nella chat al termine delle presentazioni io le raccoglierò indirizzandole a e le leggerò evidentemente indirizzandole ai ai nostri relatori pertanto vi chiederei anche la gentilezza di indicare il relatore se vi è un relatore in particolare al quale state dirigendo la domanda di indicare a chi appunto la vostra domanda è diretta grazie ancora a Danilo e a Danilo Bilotta e direi che possiamo immediatamente procedere con la seconda relazione il nostro secondo relatore è una persona che nel contesto di Croce Rossa non ha bisogno di presentazioni il professor Giulio Bartolini professore di diritto internazionale presso l'Università Roma 3 e presidente del comitato scientifico CRI sul diritto internazionale umanitario e assieme ad altri nostri relatori qui presenti oggi direi è antesignano del diritto internazionale dei disastri è stato corresponsabile del progetto dell'International Disaster Law Project di cui molti di noi oggi qui presenti come relatori abbiamo fatto parte ed è attualmente titolare del progetto Jean Monnet Disseminating International Disaster Law for Europe nonché direttore dello Yearbook International Disaster Law il professor Bartolini analizzerà il caso del Covid-19 a partire da uno strumento internazionale rilevantissimo forse non troppo preciso ce lo racconterà lui nell'individuare le misure di prevenzione e preparazione rispetto alle emergenze sanitarie ossia i regolamenti sanitari internazionali dell'OMS del 2015 prego Giulio grazie Alice ringrazio appunto anche tutti i partecipanti a questo secondo webinar che abbiamo organizzato come comitato scientifico in questo caso anche con la predisposizione nel programma anche la collaborazione di Alice Riccardi e di Flavio a Zorzi rispetto al quale appunto l'idea era di dopo l'altro webinar su covid e conflitti armati di focalizzarsi sui aspetti di disaster proprio perché proprio rispetto all'area 4 di cui poi facciamo appunto di riferimento ringrazio anche molto Danilo e Bilotto perché queste osservazioni sono estremamente importanti e utili anche per far comprendere come gli aspetti pratici operativi sono statunitamente connessi agli elementi giuridici appunto gli elementi della qualificazione del concetto di verità professionale ed altro ma poi soprattutto anche perché già in un paio di elementi Danilo ha accettato un documento che era diciamo così nel background ovvero gli documenti sanitari internazionali dell'organizzazione mondiale della sanità e occorre quindi cercare un po' anche perché sono uno strumento che anche quando facciamo i corsi di disaster law non sono propriamente analizzati proprio perché almeno fino agli anni passati chiaramente un'ipotesi di pandemia non era la principale ipotesi operativa nella quale ci immaginavamo di dover operare anche ragionare in termini giuridici ma poi essendo questo il caso occorre un attimo focalizzare l'attenzione su questi regolamenti sanitari internazionali sulla loro funzione anche qui sulle prospettive di riforme di riforma su cosa magari non ha funzionato su alcuni aspetti l'attuale regolamento sanitario internazionale che ha regolato questa pandemia è quello adottato nel 2005 dall'Assemblea mondiale della sanità dell'organizzazione mondiale della sanità che quindi è un atto internazionale che è vincolante per tutti gli stati membri dell'OMS salvo che loro non decidono di non aderirvi non è stato il caso e attualmente sono 196 gli stati che sono vincolati al regolamento sanitario internazionale quindi tutti gli stati sono regolati da questa normativa questo evento non è il primo strumento di rilievo ma ha presentato delle interessanti novità in passato anche l'idea di voler fissare degli obblighi di recuperazione da parte degli stati soprattutto di informazione in materia sanitaria di sviluppo di eventi sanitari con un possibile trasferimento transnazionale già risale alla fine dell'Ottocento con la prima convenzione sanitaria come si chiamava all'epoca che venne dotata tra l'altro a Venezia nel 1892 quindi uno strumento un primo strumento di cooperazione molto dotata nel tempo che poi ha subito ovviamente tutta una serie di molteplici ulteriori convenzioni sanitarie fino ad aggiungere ai regolamenti sanitari dell'OMS del 51 e del 1969 poi modificati in questo del 2005 qual è la grande novità? La grande novità essenzialmente che il precedente approccio era un approccio principalmente volto quasi essenzialmente a trasmettere informazioni su un set di malattie essenzialmente il regolamento sanitario del 1969 pissava sei malattie rispetto alle quali tipo la peste tipo la febbre gialla rispetto alle quali occorreva fornire informazioni all'OMS e creare appunto anche agli entry points aeroporti porti delle minime strutture sanitarie capaci di identificare queste situazioni di complessità il regolamento sanitario del 2005 modifica fortemente il sistema è anche frutto della crisi connessa all'Ebola precedentemente che era una malattia che non era prevista nel pregresso dell'organizzazione sanitaria rispetto al quale quindi non vi erano dei forti obblighi a carico degli stati di informazione condivisione eccetera nel regolamento sanitario del 2005 si adotta un approccio multirischio sostanzialmente vi è come vedremo degli obblighi di notificazione ma non solo rispetto non a una lista di malattie ma rispetto a determinati eventi che possono costituire un emergenza sanitaria di livello di tipo internazionale e che sono determinati da un algoritmo l'algoritmo è presente all'annesso secondo di questo di questo strumento in cui sostanzialmente si richiede agli stati di notificare all'OMS che cosa o anche qui una lista di eventi connessi a determinate malattie come il colera sempre la febbre gialla ed altri elementi oppure ad altre malattie inaspettate o inusuali che possono avere un impatto serio compreso in questo caso anche le SARS ovvero una sindrome acuta respiratoria severa che poi è il caso di specie oppure l'altra ipose quindi vedete tutto un O per allargare sempre più non solo una lista qualsiasi altro invento di cause sconosciute che sostanzialmente possono determinare un impatto serio a livello transnazionale e quindi quello che poi è avvenuto quindi sostanzialmente la prima grande novità del regolamento del 2005 è un approccio multirischio si dice che quindi è estremamente significativo da questo punto di vista è un'importante e positiva innovazione tant'avia permessa ad esempio rispetto al coronavirus in oggetto di essere prontamente identificato come un evento rispetto al quale era necessario effettuare delle misure e cosa chiede il l'Unione Sanitaria internazionale chiede essenzialmente alcune tipologie di misure di cui la prima è quella più classica ovvero gli obblighi di notificazione cioè nel caso in cui lo Stato ritenga che nel suo territorio si sviluppi uno degli eventi che derivano da questo algoritmo di cui vi parlavo deve tramite il focal point nazionale comunicare all'OMS prontamente nell'arco di 24 ore che c'è un evento che può costituire un'emergenza sanitaria di livello di international consera di preoccupazione internazionale e quindi vedete vi è un primo obbligo molto puntuale di informazione all'OMS e per rafforzare questo obbligo di informazione vi sono state delle novità molto importanti ovvero che l'OMS può anche utilizzare nella sua valutazione non solo i report che vengono dallo Stato perché ma anche i report che possono venire da altre fonti che vuol dire anche da fonti da media o da ONG o da organi di informazione perché ovviamente ci si era reso conto tanto più al tempo dell'Ebola come il rischio che gli stati tendessero a nascondere eventi sanitari di potenziale impatto transnazionale era evidente perché poi capite bene che la conseguenza è quello che abbiamo visto anche in questo caso ovvero una corsa alla chiusura all'isolamento di quello Stato con effetti economici molto importanti quindi sostanzialmente l'idea che queste informazioni devono essere prontamente condivise che quindi se anche lo Stato è recalcitrante l'OMS può utilizzare altre fonti per fare delle votazioni e entrare in dialogo con gli stati rispetto al caso cinese un'annotazione la Cina ha comunicato il 31 dicembre dell'evento in causa e secondo molti osservatori è stata una comunicazione abbastanza celere o comunque è un caso evidente che sebbene ancora non erano filtrate molte informazioni anche se alcune già iniziavano a filtrare era soltanto impossibile perché poi alla fine la comunicazione al di là del potenziale ritardo di alcuni giorni che uno può ragionare eccetera era impossibile per uno Stato tenerlo ormai nascosto chiuso e questa è un'importante innovazione del regolamento cosa succede se poi arrivano queste informazioni la misura è un approccio binario perché quello che può succedere è che a un certo punto il direttore generale dell'OMS dichiari che esiste appunto una emergenza sanitaria di livello di preoccupazione internazionale sulla base di consigli che derivano da un comitato di emergenza che è composto da vari esperti non solo giuristi ma tanto più esperti e sanitario ovviamente e quindi fa sapiente una dichiarazione che c'è questo evento nel passato considerate da quando l'inverno sanitario è entrato in vigore ad ora in sei soli casi è stato effettuato e qui si è molto discusso su anche la valenza di queste dichiarazioni perché in molti casi sono dichiarazioni che talora ritardano talora invece sono state considerate come volte a porre una particolare pressione nei confronti di alcuni stati come per esempio per il Pakistan per un'esplosione dei casi di poliomielite ad esempio ma in questo caso diciamo così ad esempio la dichiarazione in oggetto venne dopo la seconda riunione la prima riunione che avvenne verso la terza settimana di gennaio non venne ancora qualificato come un evento di tale fattispecie questa comunicazione invece avvenne semplicemente avvenne solo nel 31 gennaio quindi sostanzialmente un mese dopo esatto da quando la Cina comunica l'OMS dichiara questo ora cosa succede quando viene dichiarato questo poco onestamente dal punto di vista dell'evento sanitario internazionale ovvero viene una sorta di importante alert che viene comunicato agli stati ma non è che l'OMS da questo punto di vista poi ha fortissime capacità incisive su quale sarà poi la risposta nazionale perché l'OMS sulla base dell'evento sanitario può solo emanare delle raccomandazioni di carattere temporaneo il termine raccomandazione nel diritto internazionale significa che sono raccomandazioni non sono vincolanti per gli stati e fateci anche attenzione nelle prime raccomandazioni fatte dall'OMS ad esempio l'OMS sconsigliava che gli stati adottassero delle misure particolarmente pesanti come ad esempio il blocco del traffico aereo il blocco del commercio il blocco delle persone perché in quel momento riteneva che queste misure sarebbero state probabilmente troppo invasive rispetto alla situazione in essere poi questa situazione chiaramente si è modificata al tempo stesso il rinvento sanitario internazionale non impedisce alle stati di adottare delle misure più restrittive rispetto alle raccomandazioni temporanee fatte dall'OMS infatti diversi stati anche nelle prime more iniziarono ad adottare una serie di misure più stringenti o addirittura in alcuni casi furono operatori privati in molti casi furono le stesse compagnie aeree a restringere la circolazione verso determinate aree prima ancora di misure imposte dall'autorità nazionale dell'aviazione civile quindi capite bene che il fatto che venga dichiarato all'emergenza sanitaria internazionale è principalmente volta poi a imporre una serie di obblighi di monitoraggio eccetera ma non è che questo mette in campo una particolare azione di forza da parte dell'OMS perché poi ad esempio l'OMS come vi dicevo non può imporre determinate misure a carico dell'Ista quello che però è a mio avviso stato particolarmente poco analizzato ma dalla stessa dottrina ma anche dagli stati è un altro set di obblighi che i regolamenti sanitari internazionali pone che non sono quelli classici di notificazione e poi appunto di reazione internazionale da parte dell'OMS con queste prime misure ma sono quelli delle cosiddette core capacities cioè l'OMS il regolamento sanitario all'articolo 5 e 13 prevede un obbligo a carico degli stati di creare in tempi normali non durante la pandemia ma prima tutta una capacità strutturale di far che cosa da un lato di identificare e monitorare gli eventi quindi ovvio se c'è un obbligo di notificazione questo non ti è sufficiente se poi non hai anche una capacità di laboratori di strutture di personale capace di identificare e verificare gli eventi e questo è l'articolo 5 l'articolo 13 ti chiede anche di sviluppare entro un determinato periodo di tempo ma questo è un è terminato ormai le capacità di rispondere prontamente ed effettivamente a rischi a una sanità a un evento di quelli di cui prima si diceva quindi l'articolo 15 impone un obbligo di capacità di rispondere prontamente ed effettivamente a questi eventi a questi eventi il centro di regolamento l'articolo l'annesso 1 dettaglia quali sono alcune di queste misure ad esempio quando voi andate negli aeroporti vedete poniamo tutte queste strutture sanitarie che possono permettere anche un isolamento temporale di determinati soggetti eccetera non sono una liberalità degli stati ma perché come vi dicevo si prevede degli obblighi di core capacities agli entry points come gli aeroporti quindi la capacità di identificare isolare anche dei soggetti eccetera ma più importante questo già esisteva nei vecchi regolamenti sanitari sugli entry points è la seconda la parte a dell'annesso 1 di cui vi dicevo sulle core capacities che è quella di richiedere agli stati di avere adeguato personale specializzato laboratori di avere capacità di legare il settore sanitario con gli altri attori nazionali per contenere le misure ma anche questo è appunto molto importante di stabilire operare e mantenere un piano di emergenza sanitario di tipo multidisciplinare per rispondere a questi eventi ora capite bene che quando si tocca a questo aspetto significa che gli stati dovrebbero già avere le capacità di rispondere a questi eventi e questo è diventato la grande tallone di Achille della foglia di Fico potremmo meglio dire del sistema stesso perché poi negli anni di predisposizione pochissimi stati sono apparentemente stati in grado di realizzare queste misure di capacità capacity building nel fronteggiare potenziali pandemie o di eventi similari alla scadenza del termine che è la scadenza del termine per questa implementazione di obbligare del 2016 circa due terzi degli stati erano gravemente erano totalmente carenti o gravemente carente rispetto a queste capacità perché poi queste capacità chiaramente si collegano anche a che cosa a capacità nazionali sanitarie e quindi capite bene pensate di traslare questi obblighi a carico di stati in via di sviluppo come siano delle misure fortemente impattanti nelle loro capacità e i regolamenti sanitarie nazionali non prevedono degli obblighi di assistenza finanziaria cioè non c'è un obbligo per gli stati di devolvere una certa quota di avvantaggio degli stati ancora più svantaggiati e quindi questo ha comportato anche una difficoltà di capire bene quale sia il livello qualitativo delle misure che sono richieste in questo ambito perché su questo punto l'atteggiamento dell'OMS è stato anche abbastanza ondivago non ha fissato una sticella molto alta perché ci si rendeva conto progressivamente che questa sticella non veniva superata da pochi stati sostanzialmente e quindi questo ha a mio avviso comportato una grave carenza nella fase preparatoria perché poi non vi è un forte overview internazionale su quello che viene fatta a livello degli stati o quanto gli stati si sono preparati rispetto alle pandemie poi è arrivata e a quel punto lì ci siamo resi conto che anche gli stati che avevano degli score delle valutazioni più alte non sono stati in grado in molti casi di far fronte a queste situazioni e perché è importante questo? E' importante perché si ricollega un po' anche al punto sollevato da Bilotta perché se anche c'è una pandemia o dichiarazione di emergenza sanitaria di emergenza internazionale l'OMS non ha un ruolo operativo non ha le capacità tecniche per venire a un soccorso nei confronti degli stati salvo limitati i programmi che ha e quindi è ovvio che sono gli stati stessi a dover preventivamente qui viene fuori il discorso della preparedness della preparazione rispetto ai disastri a dover adeguarsi rispetto all'evento catastrofico qui chiudo sulle riforme tenete in considerazione appunto che attualmente sono in funzione due review mechanism a livello OMS che stanno cercando di capire cosa non ha funzionato rispetto ai regolamenti sanitari internazionali e l'attuale pandemia questo è già stato fatto anche per altre emergenze per l'Ebola per la febbre suina ad esempio in passato il problema è che questa è la comandazione quando vengono fatte poi anche nel passato sono state lasciate abbastanza nel dimenticatore da parte degli attori internazionali e degli attori nazionali perché poi bisogna sempre ricordarsi che è facile criticare un'organizzazione internazionale ma questa è composta dalle listate quindi sono poi gli stati a dover dare gli strumenti alle organizzazioni per modificare questi rapporti sono attesi per entro aprile maggio del prossimo anno in vista della prossima assemblea mondiale della sanità e quindi sarà estremamente interessante cercare di capire verso quali modifiche i regolamenti sanitari internazionali potranno andare avanti e su questo sostanzialmente chiudo lasciando poi spazio agli altri relatori alle eventuali domande grazie 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 giulio che per questa interessantissima e molto chiara relazione che ci ricorda come il disastro sia un fenomeno che dobbiamo guardare olisticamente e non soltanto nella fase della risposta e direi di continuare a seguire un po' il filo della narrazione che ci ha suggerito il dottor Bilotta quando ha fatto riferimento dopo aver appunto citato l'OMS al principio di solidarietà e all'Unione Europea la nostra terza relatrice approfondirà il tema della gestione della pandemia quindi dunque dalla prospettiva dell'Unione Europea e proprio in particolare alla luce del principio di solidarietà che è uno dei valori normativi più preziosi sottesi al processo di integrazione europea ce ne parlerà la dottoressa Susanna Villani a sinistra di ricerca all'Università di Bologna e a suo tempo staff member dell'International Disaster Law Project di cui erano responsabili come ho già detto tra gli altri sia Giulio Bartolini che Emanuele Sommario che è uno dei nostri prossimi relatori e Susanna ti cedo molto volentieri la parola grazie Alice grazie mille grazie a te grazie a Giulio per l'invito e anche alla Croce Rossa che mi dà l'opportunità di tornare appunto in una versia diversa online però con voi per questo corso beh allora già tante cose sono state dette e già accennate per cui cercheremo di andare un pochino più in profondità anche sul piano prettamente operativo che immagino possa essere interessante anche per voi allora tanto per dare brevemente una piccola introduzione appunto alla luce di quello che diceva anche Alice diciamo che a livello di Unione Europea come peraltro è stato anche detto più volte nei vari nei vari anche osservatori su quelle che sarebbero le intenzioni dei cittadini dell'Unione Europea in relazione al coinvolgimento dell'Unione stessa nella risposta anche a situazioni di emergenza effettivamente si vorrebbe che l'Unione fosse più presente proprio alla luce di questo principio che è il principio di solidarietà che in realtà trova sul piano giuridico un po' di contestazioni però di sicuro anima il processo di integrazione europea e che nel corso del tempo effettivamente ha animato anche l'istituzione di determinati meccanismi e strumenti che potessero dare un'esecuzione appunto operativa al concetto di solidarietà ora venendo alla situazione che ci stiamo ancora oggi trovando a fronteggiare potremmo dire che in realtà la solidarietà come appunto anche Danilo stesso ha sottolineato all'inizio non era stata particolarmente promossa soprattutto nei confronti del nostro paese e in effetti per qualche settimana e non solo la solidarietà sembrava essere quasi a un punto morto a livello europeo proprio perché sembrava che effettivamente la questione fosse essenzialmente italiana e che non toccasse anche altri stati dell'Unione Europea basti poi ricordare quello che è stato detto appunto anche a livello di vertice di unione in pato particolare dalla Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde che chiaramente ha messo un po' di paletti al concetto di solidarietà sul piano iniziale però in realtà poi piano piano le cose sono parzialmente cambiate e di fatto questa pandemia ha permesso di comprendere un po' meglio le fragilità del concetto di solidarietà ma anche alcuni punti di forza che di fatto dovrebbero essere ulteriormente sviluppati quindi effettivamente poi gli strumenti che sono stati adottati hanno avuto sia carattere operativo che finanziario e quelli su cui mi vorrei concentrare oggi qui con voi che possono interessare anche la vostra attività propriamente sul campo sono il meccanismo unionale di protezione civile che probabilmente molti di voi avranno già appunto conosciuto in altre situazioni però che cercheremo di guardare alla luce della pandemia e lo strumento per il sostegno di emergenza che invece è un tipo di sostegno appunto di supporto di strumento di carattere finanziario che può essere molto interessante soprattutto per i prossimi sviluppi allora iniziamo con il meccanismo unionale di protezione civile che appunto unionale è una parola orribile appunto generalmente utilizziamo il meccanismo di protezione civile europeo che è un pochino più appunto carino anche da utilizzare e come lo conosciamo oggi è stato istituito con una decisione presa a livello europeo nel 2013 appunto con la decisione 1313 del 2013 e poi successivamente è rivista in realtà con altre decisioni allora che cosa prevede appunto il meccanismo in termini generali un'assistenza operativa che può essere attivata su richiesta di uno stato che sia membro dell'unione europea o stato terzo quindi che non sia membro dell'unione europea che si trovi a fronteggiare una calamità ora in realtà il meccanismo opera su tutti i livelli dell'emergenza o meno del ciclo dell'emergenza e quindi in realtà non si limita alla fase di azione di risposta ma anche in quella di prevenzione e preparazione e infatti appunto vengono organizzati grazie al centro di coordinamento una serie di trainings workshops condivisione per esempio di buone pratiche tra i diversi operatori dell'emergenza però è chiaro che oggi noi ci concentreremo più sulla fase di risposta per capire appunto quali sono i vari livelli di intervento che si possono attuare tramite il meccanismo e che sono stati attuati durante la pandemia allora il meccanismo di protezione civile per appunto semplificare però forse essere un pochino più diretti opera su tre diversi livelli di gestione di intervento in caso di emergenza allora il primo è quello più semplice perché di fatto è un tipo di livello che prevede un intervento ad hoc attivato quindi sul momento come quello tradizionalmente appunto anche illustrato da Danilo che prevede la relazione bilaterale tra gli stati quindi lo stato colpito diciamo così chiede assistenza gli altri stati mettono a disposizione nel caso in cui le abbiano risorse per fronteggiare l'emergenza però appunto è un tipo di intervento ad hoc stabilito sul momento dove il meccanismo di protezione civile in realtà opera da coordinamento grazie al centro di coordinamento delle risposte alle emergenze con sede a Bruxelles gestito dalla Commissione Europea che quindi fa da tramite sostanzialmente fra gli stati cosa è successo durante la pandemia effettivamente questo primo livello di azione è stato attuato l'Austria per esempio ha consegnato 3.360 litri di disinfettanti all'Italia così come sono stati consegnati guanti e disinfettanti a Croazia a Borse a Zegovina a Macedonia a Montenegro Albania e Moldova tramite questo approccio bilaterale e questo appunto è il livello base di intervento il secondo livello invece di intervento è già più strutturato perché perché in realtà si prevede la possibilità di istituire un pool europeo di protezione civile cioè un insieme di capacità di risposta proveniente sempre dagli stati partecipanti ma che a differenza del primo livello sono preimpegnate e quindi di fatto sono pre-registrate e sappiamo bene che sono presenti e sono immagazzinate potremmo dire custodite nelle mani degli stati che partecipano e oggi sono state già registrate 35 unità di risposta chiamati moduli che comprendono una serie di attrezzature unità di intervento come appunto le squadre di ricerca e soccorso le squadre specializzate per l'evacuazione sanitaria con mezzi aerei appunto le squadre specializzate per la lotta agli incendi boschivi come già Danilo aveva fatto riferimento quindi sono appunto delle squadre che noi sappiamo essere già presenti che possono essere attivate nel momento in cui vi sia la richiesta dello Stato durante la pandemia effettivamente questo tipo di secondo livello di intervento è stato attuato per esempio quando si è previsto il rimpatrio dei cittadini europei da varie parti del mondo in primo luogo da Wuhan stesso oppure dalla nave da crociera Diamond Princess l'attività di trasbordo diciamo appunto di rimpatrio dei cittadini è avvenuto grazie a mezzi aerei preimpegnati quindi messi a disposizione da stati che di fatto hanno raccolto i cittadini europei a prescindere dalla loro nazionalità e li hanno riportati in Europa da lì poi c'è stato addirittura lo smistamento e quindi il rimpatrio vero e proprio nello stato di residenza ma non solo in realtà all'interno di queste squadre preimpegnate abbiamo un modulo molto importante che è il corpo medico europeo che di fatto appunto è composto da squadre mediche di emergenza e relative attrezzature che possono essere quindi mobilitate nel momento in cui sia necessario che queste intervengano ed effettivamente a causa proprio della pandemia questo corpo medico europeo che di fatto era stato già istituito in seguito a Ebola ha trovato applicazione ulteriore e per esempio appunto su richiesta dell'Italia sono stati inviati come già Danilo aveva posto insomma in luce nel suo prospetto medici e infermieri per esempio dalla Romania o dalla Norvegia che sono stati effettivamente appunto messi a disposizione a favore degli ospedali a Bergamo questo appunto è il secondo livello di intervento che già vedete che è più strutturato proprio perché è preimpegnato nella sua definizione poi c'è un terzo livello quello di cui appunto Danilo già parlava cioè le cosiddette risorse rescue che cosa sono queste risorse come funzionano qual è il loro valore aggiunto allora in realtà in questo caso gli stati mantengono sempre la priorità d'azione perché sono gli stati che decidono di mettere a disposizione determinate risorse ma sono risorse acquistate noleggiate affittate dagli stati che di fatto poi appunto le custodiscono ma con sovvenzioni della commissione qual è però il valore aggiunto ulteriore è che in questo caso quando lo stato decide di che appunto vede che le risorse nazionali nonché quelle del pool europeo non sono sufficienti può richiedere appunto l'attivazione di rescue che di fatto è però un tipo di attivazione che prevede l'autorizzazione della commissione sempre in concerto con gli stati che di fatto ospitano le risorse però è la commissione che dà l'input di dispiegamento e che peraltro può finanziare i costi e quindi coprire i costi di dispiegamento dall'ottanta al novanta per cento cosa è successo finora appunto durante la pandemia effettivamente è stato creato uno stock di equipaggiamento medico quindi ventilatori dispositivi di protezione individuale kit per la diagnosi del covid sostanze terapeutiche che sono state appunto noleggiate o acquistate da sei stati membri che sono Danimarca Germania Grecia Ungheria Romania e Svezia e che poi appunto per esempio nel caso della Repubblica Ceca sono state messe a disposizione grazie però appunto ad un intervento diretto anche della commissione europea non più un dialogo quindi semplicemente stato-stato con coordinamento europeo ma la commissione è stata direttamente investita da questo il passo ulteriore come appunto diceva Danilo e di cui si sta discutendo è proprio un'ulteriore riforma che preveda un quarto livello di intervento dove a questo punto le risorse non sono più in mano degli stati ma della commissione europea la differenza è che chiaramente si potrebbe intervenire molto più velocemente e soprattutto che non dovremmo appunto essere diciamo legati alla volontà dello Stato nella possibilità di dispiegare questo tipo di mezzi però appunto vedremo dove andremo con la potenziale riforma quindi questo è lo strumento di fatto operativo che nonostante una iniziale inerzia è stato attivato e ha parzialmente comunque funzionato nonostante appunto alcuni limiti in trini se ci potremmo dire però in realtà quello forse anche più interessante perché più recente è il secondo strumento di cui vorrei parlare cioè appunto lo strumento per il sostegno di emergenza che di fatto è il braccio finanziario dell'intervento emergenziale dell'Unione che va a sostenere quello dello Stato membro questo sostegno questo strumento è stato in realtà per la prima volta attivato durante la crisi dei rifugiati e infatti appunto il regolamento che lo istituisce del 2016 però la seconda volta in cui questo strumento è stato attivato è stata proprio la pandemia a dimostrazione appunto di come sempre di più si cerchi di intervenire anche su un piano finanziario nel sostenere le Stato in una situazione di grave emergenza allora questo come funziona lo strumento per il sostegno di emergenza a differenza del meccanismo di protezione civile oltre che essere appunto di carattere finanziario è destinato solo agli stati membri dell'Unione Europea quindi non più anche stati terzi ma solo stati membri dell'Unione e che come appunto agisce in realtà qui è la Commissione Europea che detiene il ruolo preponderante perché è lei che concede sovvenzioni dirette oppure può aprire anche delle procedure di appalto a favore di beneficiari che possono essere aziende organizzazioni società che faccia una richiesta per l'acquisto preparazione raccolta trasporto stoccaggio distribuzione di beni e servizi nel momento dell'emergenza con l'esempio poi capiremo meglio di che cosa stiamo parlando però vediamo che il finanziamento dell'Unione in questo caso può coprire fino al 100% dei costi ammissibili quindi una copertura completa e peraltro la commissione nel fare questo può appunto dare esecuzione diretta allo strumento oppure anche in diretta quindi appoggiarsi a partner soggetti partner come organizzazioni non governative servizi specializzati organizzazioni internazionali quindi è un tipo di strumento che va a coprire appunto una serie di interventi sul piano finanziario che altrimenti gli stati da soli magari non riuscirebbero a coprire che cosa è successo durante il covid allora durante appunto la pandemia che in realtà appunto ancora in azione lo strumento per distorsione all'emergenza è stato attivato appunto come dicevo e sono stati stanziati 2,7 miliardi di euro per coprire necessità urgenti nel reperire essenzialmente materiale medico negli appunto 28 perché ancora la Gran Bretagna è dentro 28 stati membri allora che cosa ha fatto nel concreto e quindi come questi soldi questi 2,7 miliardi di euro sono stati gestiti allora in primo luogo ha sostenuto gli stati nell'acquisto e distribuzione delle mascherine e ventilatori così come il trasporto dei pazienti delle apparecchiature mediche la formazione anche del personale medico infermieristico inoltre è stata per esempio finanziata la distribuzione del Vecluri il farmaco probabilmente appunto lo conoscete che è stato utilizzato a livello UE per curare i pazienti affetti da covid ed è un appunto un farmaco che nella cui distribuzione è stata coperta per un contratto di 70 milioni con la causa farmaceutica quindi l'Unione Europea è direttamente intervenuta nella copertura dei costi di distribuzione di questo farmaco non solo la commissione ha inviato circa 200 servizi pubblici e organizzazioni non governative per la raccolta di sangue e ha finanziato quindi l'acquisto di attrezzature per la plasma teresi ad esempio con 40 milioni non solo c'è qualcosa che ha fatto e che ha coinvolto direttamente la croce rossa il 18 di novembre la commissione ha firmato un accordo di 35 e 5 milioni con la federazione per incrementare la capacità di effettuare test covid nell'Unione Europea quindi sostanzialmente l'Unione ha finanziato la federazione internazionale di croce rossa per una serie di attività in questo ambito quindi la formazione del personale per il prelievo l'analisi dei campioni i test e anche appunto la mobilizzazione delle attrezzature mobili e effettivamente appunto è uno strumento che permette dal punto di vista prettamente finanziario di colmare appunto le lacune delle autorità nazionali garantendo però un supporto di carattere economico e tanto appunto per venire all'ultima diciamo forma di finanziamento che ci interessa anche da vicino perché è chiaramente tema attuale una parte significativa del bilancio disponibile è stata e sarà utilizzata per garantire la produzione dei vaccini nell'Unione Europea e l'approvvigionamento dei vaccini stessi attraverso una serie di accordi di acquisto che sono già stati conclusi con una serie appunto di case farmaceutiche appunto ha concluso al momento la Commissione Europea contratti con sei aziende farmaceutiche fra cui la Pfizer l'AstraZeneca e la Moderna quindi le case farmaceutiche di cui sentiamo parlare quotidianamente proprio in relazione ai vaccini dunque vedete appunto che questo strumento effettivamente di carattere finanziario ripeto è uno strumento molto utile che che va di fatto e che è andato soprattutto in questa fase pandemica a a bilanciare un'attività operativa che ancora trova come Danilo suggeriva molti limiti limiti perché perché fondamentalmente appunto la protezione civile di fatto come la vogliamo intendere o comunque la risposta all'emergenza resta una competenza nazionale ed è anche giusto alla luce del principio di sussidiarietà che vi sia appunto un diverso grado di intervento per cui prima si ha lo Stato nelle sue diverse formazioni poi a prendersi cura dei cittadini però che poi e questo è il salto che dovremmo fare forse ancora di più che poi nel momento in cui però l'assistenza alla solidarietà deve essere dimostrata ci sia invece una vera effettiva solidarietà soprattutto a livello europeo qui appunto chiudo credo di essere rimasta nei tempi e chiaramente appunto se avete domande e curiosità dopo nel dibattito possiamo approfondire alcuni aspetti grazie grazie a dopo grazie mille Susanna devo dire un intervento che anche a me ha chiarito molti aspetti dell'intervento dell'Unione e quindi sono sicura che sia stato di beneficio per tutti i nostri partecipanti passiamo adesso alla nostra terza relazione con un tema che in realtà è rimasto sottotraccia evidentemente sottotraccia a tutte le nostre discussioni sinora che è il tema dell'impatto che la pandemia sta avendo sui diritti umani sia perché per un verso alcune delle misure adottate dal distruttore stati per contrastarne l'avanzata determinano certe restrizioni al godimento di alcuni diritti e libertà individuali ma anche perché per l'altro verso l'adozione di certe misure è da considerarsi un obbligo è discendente dal diritto internazionale dei diritti umani che impone agli stati di attivarsi per proteggere alcuni diritti come ad esempio il diritto alla vita e di un tema così diciamo affascinante nonché complesso ci parlerà Emanuele Sommario il dottore Emanuele Sommario ricercatore presso la scuola superiore Sant'Anna nonché già responsabile con Giulio Bartolini e altri colleghi dell'International Disaster Law Project e oggi titolare del diciamo nel module sul tema dal titolo European and International Human Rights Standards in Disaster Settings presso la scuola superiore Sant'Anna Emanuele a te la parola Buongiorno a tutti grazie Alice per la presentazione grazie ad Alice stessa Giulio e Milena per aver organizzato questo evento e per me ovviamente è sempre un piacere poter intervenire in eventi a favore del personale di Croce Rossa e grazie anche per avermi dato la possibilità di rivedere molti amici Danilo Susanna Giovanna e riprenderò praticamente lo schema introduttivo che ha già fornito Alice perché effettivamente io la mia intenzione era di articolare la mia presentazione in due diciamo momenti il primo nel quale cercherò di dare conto del appunto degli obblighi che gli stati hanno di proteggere i diritti umani anche e soprattutto in situazione di emergenza e il secondo invece nel quale tenterò di dare conto di come e in che misura gli stati possano nell'adottare misure necessarie a preservare la salute pubblica comprimere il godimento di alcuni diritti facendo ricorso o alle cosiddette clausole di limitazione ordinaria ossia limitazione di diritti che non richiedono di modificare diciamo l'assetto del trattato sui diritti umani oppure invece anche a clausole di cosiddetta deroga ossia dei meccanismi che i trattati sui diritti umani mettono a disposizione per sospendere alcuni dei diritti cui sono legati in situazioni ordinarie proprio per far fronte a una situazione emergenziale di portata eccezionale cominciamo cominciamo quindi a dettagliare quali sono gli obblighi cosiddetti positivi degli stati nel garantire i diritti umani è ormai accettato sia in dottrina che nella prassi che gli obblighi degli stati in materia di diritti umani non siano semplicemente appunto negativi cioè di non privare della vita o di non torturare o di non diciamo imprigionare arbitrariamente ma che gli stati abbiano dei obblighi di far sì che i diritti garantiti dai trattati vengano poi effettivamente realizzati e per realizzare questi diritti soprattutto diciamo in relazione al diritto alla vita che come diceva Alice è uno dei diritti più importanti devono appunto prendere delle misure adottare misure che diciamo siano in contrasto a diciamo pericoli individuati al diritto alla vita stessa per cui appurato che effettivamente il covid come qualsiasi malattia altamente contagiosa e con un'alta morbidità costituisce un pericolo alla vita gli stati hanno l'obbligo ovvio di prendere come dicevo le misure che ritengono e che si rivelino poi appropriate a contrastare sia la propagazione del covid ma anche a far sì che chi ha contratto la malattia possa essere curato nella maniera più efficace da cosa dipenderà l'appropriatezza delle misure che gli stati prendono da una serie di fattori ovviamente dalla pericolosità del virus che va valutata alla luce del tasso di contagiosità del tasso di morbidità della capacità dei sistemi sanitari di far fronte all'epidemia delle in generale diciamo delle risorse disponibili in sostanza in generale diciamo che gli stati devono individuare le misure più idonee sia come dicevo a limitare il propagarsi del virus ad esempio rendendo obbligatorio e magari distribuendo anche le mascherine oppure e poi anche diciamo le misure più idonee a combattere la malattia dal punto di vista medico quindi ad esempio non so impegnarsi finanziare ricerche per trovare il vaccino oppure reclutare nuovo personale medico si tratta però ovviamente di un cosiddetto obbligo di condotta ossia non è che se se lo Stato diciamo dimostra prova di aver utilizzato tutte le risorse disponibili per appunto ottemperare a questi obblighi se poi qualcuno come sforzano talmente sta avvenendo muore a causa del Covid questa non costituirà ovviamente una violazione dei diritti alla vita da parte dello Stato proprio perché lo Stato ha utilizzato la propria due diligence si è impegnato per appunto riuscire a arginare in qualche maniera questa minaccia al diritto alla vita considerazioni del tutto analoghe valgono anche per il diritto alla salute il diritto alla salute che voi sapete è codificato non nel patto per i diritti civili e politici ma in un'altra convenzione il patto per i diritti economici e sociali però anche in quel caso gli organi di monitoraggio del trattato hanno evidenziato come gli Stati debbano abbiano degli obblighi precisi di garantire il diritto alla salute prendendo delle misure che siano tese appunto a questo scopo quindi misure per esempio tese alla prevenzione al controllo di malattie epidemiche misure tese a garantire a tutti il pieno diritto all'accesso alle cure mediche nello specifico il comitato per i diritti economici e sociali ha addirittura individuato degli obblighi minimi che gli Stati sono tenuti incluso in qualsiasi circostanza incluso in circostanze emergenziali e questi obblighi minimi prevedono ad esempio il dovere di fornire i farmaci in maniera non discriminatoria la fornitura di diciamo medicine essenziali alla sopravvivenza ovviamente della popolazione chiaramente ad esempio il vaccino rientrerebbe fra queste misure essenziali un'altra misura diciamo individuata fra quelle minime è l'adozione di un piano nazionale per la protezione della salute pubblica che sia basato ovviamente su evidenze epidemiologiche la fornitura di campagne di immunizzazione quindi di vaccinazione nei confronti delle principali malattie infettive nelle osservazioni generali si menzionano malattie tipo tubercolosi e altre malattie del genere però chiaramente anche il covid rientrerebbe a pieno titolo fra le malattie diciamo per le quali sarebbe opportuno avere appunto una campagna di vaccinazione e un altro obbligo per esempio è quello di formare adeguatamente il personale medico e infermieristico ci sono stati casi in cui questi obblighi siano stati diciamo testati già da organi di monitoraggio non ancora però ci sono stati già dei ricorsi delle comunicazioni presentate ad esempio la Corte Europea dei Diritti Umani una che è stata diciamo respinta per motivi di ammissibilità ma nel quale il ricorrente sosteneva che la Francia non avrebbe fatto abbastanza per far fronte alla pandemia non avrebbe distribuito abbastanza mascherine FFP2 FFP3 non avrebbe posto in essere uno screening di massa efficiente per individuare chi fosse stato contagiato dal vaccino non avrebbe ad esempio secondo ricorrente sempre autorizzato la distribuzione e la somministrazione di idroclorichina che secondo ricorrente era efficace diciamo per trattare il covid vi dicevo nel caso di specie è stata respinta diciamo la doianza perché la persona che l'aveva presentata non aveva in realtà subito direttamente le conseguenze di queste presunte violazioni da parte della Francia e quindi diciamo che non era una vittima ai sensi della convenzione però è immaginabile che di qui ai prossimi mesi la corte comunque sia chiamata a esprimersi su queste questioni magari in risposta a ricorsi portati dai parenti di alcune delle vittime quindi questa è la parte prima quella sugli obblighi positivi cosa deve fare lo Stato per garantire i diritti fondamentali in situazioni emergenziali soprattutto di fronte al covid la seconda parte vi dicevo è quella che riguarda le limitazioni che lo Stato può imporre per realizzare il suo scopo primario in questo momento che è quello ovviamente di salvaguardare la salute pubblica perché è appurato e accettato da tutti che esistano e i trattati internazionali lo prevedono esista sia legittima la possibilità di sottoporre i diritti individuali di ognuno o meglio la maggior parte dei diritti individuali di ognuno a delle restrizioni che siano tese a salvaguardare o determinati interessi diciamo collettivi quindi l'ordine pubblico la sicurezza nazionale la morale pubblica e la salute pubblica ovviamente ma anche gli interessi e i diritti degli altri quindi ad esempio tanto per fare di nuovo un caso che è stato portato di fronte alla Corte Europea la mia libertà di espressione di twittare o di andare in radio o in televisione a dire che ad esempio il Covid non esiste che non è che non è letale che è tutta un'invenzione senza averne le prove perché chiaramente se uno ha le prove può dire quello che vuole ma se lo fai senza averne le prove lo Stato ha il diritto di appunto censurarti perché altrimenti tu stai dando indicazioni al pubblico che ti ascolta che una cosa una situazione grave non è in realtà grave quindi diciamo che la tua libertà di espressione viene compressa in ossequio all'esigenza di diciamo salvaguardare la salute pubblica allo stesso modo se uno legge per esempio l'articolo 5 della Convenzione Europea dei diritti umani che è quella che preserva il diritto alla libertà personale sancisce il diritto di ognuno alla libertà personale e poi però dice nessuno e leggo nessuno può essere privato della libertà se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge e poi c'è una serie di casi fra cui alla lettera E leggiamo se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa quindi diciamo che nello stesso articolo è previsto che la libertà personale possa essere ristretta se io sono un soggetto che ha una malattia contagiosa potenzialmente mortale e quindi si renda diciamo necessario la mia ospedalizzazione coatta quali sono i requisiti per imporre limitazioni diciamo di carattere ordinario beh c'è bisogno che ovviamente siano previste della legge c'è bisogno che perseguano uno dei diciamo dei fini legittimi che dicevamo prima ossia il mantenimento dell'ordine pubblico la salute pubblica e poi l'ultimo requisito che ci sia una proporzionalità fra il diritto individuale che viene limitato e diciamo il diritto collettivo che si cerca di preservare anche qui ci sono stati alcuni casi già presentati di fronte alla corte europea per esempio un sindacato svizzero che si è lamentato del fatto di non aver potuto organizzare manifestazioni il primo maggio perché c'era in vigore un provvedimento delle autorità federali che vietavano ogni assembramento e sosteneva che appunto questo fosse una violazione del suo diritto di riunione pacifica sancito dall'articolo 11 della convenzione europea in un altro caso tanto per farvi capire come anche altri diritti siano possono essere direttamente coinvolti un detenuto rumeno si lamentava del fatto che le autorità carcerarie non l'abbiano fatto uscire per andare a diciamo presenziare a una funzione religiosa fuori dal carcere perché lui era fedele di questa la chiesa ventista del settimo giorno e sostenendo le autorità dicevano che durante il covid non si poteva uscire dalla prigione per diciamo ovvi motivi e lui invece sosteneva che questa fosse una violazione del suo diritto alla appunto alla libertà religiosa vediamo vedremo poi insomma se queste se queste diciamo i ricorsi verranno ritenuti admissibili cosa cosa deciderà la corte da ultimo volevo parlare un attimo invece della possibilità di introdurre limitazioni straordinarie ossia di fare ricorso alla cosiddetta clausola derogatoria è infatti previsto dai trattati sui diritti umani la possibilità che a fronte di un pericolo pubblico eccezionale che dice il trattato minacci l'esistenza della nazione che gli stati possano sospendere alcuni degli obblighi previsti dal trattato stesso nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga quindi anche qui c'è un elemento di necessità e proporzionalità nella diciamo nell'introduzione di misure derogatorie e poi continua purché tal misura non siano incompatibili con altri obblighi imposti agli stati e non siano discriminatorie cosa vuol dire in situazioni di pericolo pubblico eccezionale il covid rientra ora bisogna dire che fino a quest'anno in realtà questa clausola era stata utilizzata soltanto a fronte di conflitti armati oppure campagne terroristiche particolarmente intense quasi soltanto perché in realtà c'erano stati anche degli altri casi da quest'anno abbiamo assistito a un profluvio di deroghe sia la commissione europea che al patto per i diritti civili e politici cagionato proprio dal covid-19 e dell'esigenza che gli stati hanno avvertito di introdurre appunto misure derogatorie dal punto di vista della prassi degli organi di monitoraggio diciamo che molto probabilmente la situazione è qualificabile come una situazione di pericolo pubblico eccezionale va visto se effettivamente diciamo ricorrere a clausole di deroga fosse in queste circostanze realmente necessario perché perché come vi dicevo prima delle restrizioni ai diritti individuali sono già possibili anche senza far ricorso a a questi provvedimenti eccezionali tanto è vero che molti stati soprattutto quelli del diciamo dell'Europa occidentale quindi Italia Francia in realtà la grande maggioranza degli stati hanno introdotto le stesse misure introdotte da stati che invece hanno fatto ricorso alla deroga però senza ricorrere alla clausola di deroga quindi uno si chiede ma perché alcuni hanno ritenuto di dover derogare e altri no questo non si sa non lo sappiamo ce lo dirà auspicabilmente la Corte Europea semmai verrà chiamata a esprimersi sul punto e secondo me è facile che ci siano dei ricorsi rispetto a questi a questi punti la mia previsione è che se diciamo venisse chiamata appunto a esprimersi diciamo sarebbe abbastanza benevola con gli stati che hanno fatto ricorso alla deroga nel senso che l'utilizzo della deroga di solito è appunto lasciato molto alla descrizionalità degli stati e gli stati hanno un cosiddetto ampio margine d'apprezzamento nel valutare se fare ricorso alla deroga scusate se fare ricorso alla deroga e quali misure adottare mi permetto però anche di dire che molto probabilmente anche per gli stati che non hanno fatto ricorso alla deroga sarebbe secondo me difficile prospettare diciamo delle condanne poi bisognerà vedere appunto paese per paese quali misure siano state adottate perché in passato la corte europea si è dimostrata abbastanza come dire diciamo indulgente nei confronti di stati che in situazioni di emergenza hanno introdotto misure restrittive che noi considereremmo eccezionali che però comunque la corte è considerato come comunque rientranti nell'alveo di quelle previste di quelle legittimate ai sensi dicevo delle clausole di limitazione ordinaria quindi ora vedo che il mio tempo è finito diciamo che bisognerà monitorare con molta attenzione quello che dirà la corte europea e il comitato per i diritti umani nei prossimi mesi e nei prossimi anni perché ci potrà dare delle indicazioni chiare sia su quali misure gli stati avrebbero dovuto a quel punto introdurre per proteggerci dal covid sia sulle misure che invece hanno introdotto per proteggerci per verificare appunto se sono state eccessive rispetto alla finalità che gli stati volevano perseguire cioè alla finalità di come dire tutelarci dal covid stesso vi ringrazio grazie grazie mille Emanuele io visto che siamo un po' in ritardo molto rapidamente lascerei la parola alla professoressa Giovanna Di Nolfi che è ordinaria di diritto internazionale presso l'università Milano-Statale la professoressa Di Nolfi tra le altre cose è esperta di diritto internazionale dell'economia e diritto del commercio internazionale ma ha in particolare una vasta per quanto riguarda noi oggi una vasta competenza in materia di diritto internazionale dei disastri in connessione anche con le materie che ho appena citato segnalata tra l'altro dalla titolarità del modulo Jean Monnet Youth Disaster Response Law in an International Context e da numerose pubblicazioni in materia tra cui un recentissimo studio pubblicato sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che offre diciamo studia in particolare alcuni degli aspetti di cui oggi discuterà con noi la professoressa Di Nolfi ci parlerà appunto di uno dei temi di cui ogni indiscussa esperta come rappresentato dallo studio che vi ho appena citato ossia della regolamentazione internazionale dei beni di equipaggiamenti di soccorso tema che appunto la diciamo traccia di Danilo Bilotta già aveva segnalato come decisamente uno degli argomenti delle questioni giuridiche più pressanti nel corso dell'epidemia da Covid-19 sono molto contenta Giovanna di darti la parola grazie potete sentire grazie mille grazie grazie ad Alice grazie alla Croce Rossa per aver organizzato questa iniziativa e per avermi coinvolto e a Giulio anche cui appelli io rispondo sempre con piacere allora io ho cominciato a occuparmi di queste tematiche oramai dieci anni fa come dire mai avrei immaginato quando mi fu chiesto per la prima volta di condurre uno studio su commercio internazionale e disastri come dire mai avrei immaginato di poter scrivere molto su questo su questo argomento non avrei voluto immaginare di dovermene anche occupare come dire dire direttamente perché coinvolta personalmente da queste questioni però ecco è veramente è stata una scoperta per noi insomma docenti universitari che facciamo anche ricerca scientifica è stato bello scoprire un nuovo ambito di ricerca e trovare anche come questi ambiti di ricerca siano di interesse per una comunità molto vasta che va oltre quella che è la stretta la stretta accademia insomma di università e allora io come dire avevo intenzione di parlarvi di tre punti sono diventati due punti e mezzo perché uno insomma è già stato toccato da Susanna integrerò qualcosa rispetto a quella che ha detto che ha detto Susanna allora sostanzialmente quali sono i due punti sui quali vorrei un po' focalizzarmi due punti e mezzo sono da una parte come dire il commercio di tutti quei dispositivi di protezione individuale dispositivi sanitari dispositivi medici di cui si è avvertita un'enorme necessità a partire da febbraio da febbraio di quest'anno nel nostro paese e nell'Unione Europea però una situazione in cui noi come Italia abbiamo dovuto far fronte a delle carenze di produzione in questo particolare settore quindi si sono dovuti rifornire dall'estero e questo ha comportato una serie di difficoltà anche all'interno dell'Unione Europea un po' quello spirito di solidarietà purtroppo non è stata solo la presidente della BCE agli inizi a dimenticarlo ma anche alcuni stati insomma hanno un po' perso la bussola ma sono stati messi sulla retta via velocemente però c'è una responsabilità dell'Unione Europea per la solidarietà nei confronti del resto del mondo in questo particolare quindi un po' il commercio di questi dispositivi e poi come dire un secondo punto un terzo punto riguarda la materia dei vaccini Susanna ha già anticipato alcune cose però anche qui vorrei aggiungere alcuni elementi allora primo punto il commercio mondiale di presidi medici e sanitari uno studio del 2019 pubblicato dall'Organizzazione Mondiale del Commercio del 2020 vuole che il commercio di questi beni nel 2019 solo l'anno scorso ammontava 2000 miliardi di dollari a livello mondiale e solo 10 paesi sono responsabili del 75% dell'esportazione di presidi medici e sanitari per darvi un'idea le mascherine il 50% del commercio delle esportazioni proviene da Stati Uniti Cina e Germania quindi sono tre paesi che esportano il 50% delle mascherine che sono vendute sui mercati internazionali Allora a fronte di questa situazione allora si capisce come quando agli inizi della pandemia quando ci si rende conto che è un problema europeo non è solo un problema italiano quando come dire agli inizi poi Francia e Germania pongono limiti all'esportazione di dispositivi di protezione individuale la questione diventa molto grave anche per un paese come l'Italia che non ha una produzione nazionale come dire sufficiente a quell'epoca per far fronte per far fronte alla domanda Francia e Germania pongono un divieto di esportazione verso qualsiasi paese quindi non soltanto verso paesi terzi ma anche all'interno del mercato dell'Unione Europea Allora al di là dei profili giuridici è legittimo non è legittimo viola le norme del trattato sull'Unione Europea come dire qui era necessario trovare una soluzione all'interno dell'Unione Europea e questo come dire forse un po' Giulio Bartolini faceva riferimento alla preparedness cioè la capacità di risposta di essere pronti a rispondere a situazioni di gravità come di disastro naturale o come di crisi sanitarie molto gravi bene la Commissione Europea interviene molto velocemente bisogna dire adottando una normativa regolamento con il quale sostanzialmente pone un divieto di esportazione di mascherine e altri dispositivi sanitari e medici dall'Unione Europea verso paesi terzi cioè nella sostanza la Francia e la Germania sono disposti a abrogare i loro divieti di esportazione che colpivano anche i paesi dell'Unione Europea l'Unione Europea come contropartita come dire impone un divieto di esportazione verso paesi terzi questo consentiva sicuramente la circolazione di questi beni sul mercato dell'Unione Europea e quindi la possibilità per l'Italia di approvvigionarsi verso fornitori da fornitori che si trovavano anche in Germania Germania che è uno dei tre paesi responsabile del 50% dell'esportazione bene l'obiettivo è abbastanza semplice era come dire soddisfare in quel momento un aumento della domanda interna considerevole contando sulla capacità di produzione dell'Unione Europea tuttavia come dire invocando lo spirito di solidarietà questa volta anche nei confronti degli altri paesi queste misure sono state adottate anche di altri paesi gli Stati Uniti hanno adottato un provvedimento simile un divieto di esportazione di alcuni presidi medici e sanitari questo come dire rischiava di procurare degli effetti anzi no ha procurato degli effetti anche abbastanza pregiudizievoli se come dire le forniture nel mercato dell'Unione Europea erano salvaguardate ebbene ci potevano essere gravi rischi nelle forniture di paesi terzi paesi terzi che dipendono molto dalle a loro volta anche loro dalle importazioni che provengono dall'Unione Europea quindi vietare le esportazioni verso al di fuori del mercato dell'Unione Europea salvaguardava a noi ma poteva creare problemi per il resto del mondo in particolare per alcuni paesi in via di sviluppo per alcuni gruppi di paesi in via di sviluppo le cui catene di approvvigionamento per questo tipo di presidi dipende come dire dai fornitori dell'Unione Europea la commissione in questo come dire in questo regolamento che ha approvato e non è più in vigore questo divieto di esportazioni è stato applicato fino ad aprile del 2020 quindi per un periodo di due mesi nelle prime fasi emergenziali che oggi non è più in vigore l'Unione Europea per far fronte a quelle che erano le necessità di approvvigionamento anche dei paesi in via di sviluppo ha introdotto alcune deroghe a questo divieto di esportazione ma soprattutto quella che era fondamentale il divieto di esportazione non trovava applicazione per le forniture che avvenivano nel quadro di operazioni umanitarie internazionali quindi laddove produttori dell'Unione Europea avessero collocato sul mercato internazionale questi beni presidi medici e sanitari perché fossero utilizzate da operazioni umanitarie internazionali in paesi terzi il divieto di esportazione non trovava applicazione cosa è accaduto anche sempre un po' volgendo lo sguardo verso l'esterno alcuni paesi questi divieti di esportazione li hanno applicate non soltanto sull'esportazione di presidi medici e sanitari ma anche sull'esportazione di prodotti agricoli ed alimentari questa non è una misura adottata dai paesi dell'Unione Europea è una misura adottata da altri stati perché si riteneva che a fronte di una crisi economica che sarebbe cominciata di lì a breve tempo che avrebbe comunque potuto pregiudicare anche il commercio internazionale in questo particolare ambito nonostante non vi fossero dati in questo senso per cui il commercio internazionale di prodotti agricoli alimentari stava cadendo non vi era alcun dato si limitano le esportazioni l'obiettivo è destinare la produzione nazionale di questi beni al soddisfare la domanda nazionale ci assicuriamoci che i consumatori nazionali abbiano accesso in modo sufficiente a cibo e prodotti agricoli bene anche qui nuovamente tutto questo può avere un impatto sulle operazioni umanitarie internazionali perché come dire i programmi internazionali basta pensare solamente al programma alimentare mondiale al World Food Programme della Banca Mondiale il World Food Programme acquista prodotti agricoli e prodotti alimentari sui mercati internazionali nel momento in cui i principali fornitori pongono dei limiti all'emissione sui mercati esteri quindi alla vendita sui mercati internazionali di questa particolare categoria di genesi si pregiudica la capacità in teoria in realtà questo accade anche in pratica di questi programmi di assistenza umanitaria di poter operare per cui la crisi sanitaria già in corso non si produce nient'altro che un aggravamento di crisi alimentare che presistevano a dicembre del 2019 e qui vi sono alcune iniziative che però fino ad oggi non hanno trovato alcun successo o quantomeno nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio per come dire vietare le restrizioni all'esportazione di prodotti agricoli e alimentari quando destinate al World Food Program o ad altri programmi alimentari mondiali quindi come dire una prima reazione che si è avuta da parte degli stati anche all'interno dell'Unione Europea allo scoppio della pandemia una volta in cui si è cominciato a intuire quale ne sarebbe stata la gravità teniamo al nostro interno quei beni che ci sono assolutamente necessari ha avuto delle conseguenze quindi delle ricadute negative anche su altri stati sul piano commerciale cos'altro ha fatto l'Unione Europea l'Unione Europea contemporaneamente come dire posto che molti di questi presidi medici e sanitari ritornando a questi beni venivano importati dai paesi dell'Unione Europea anche da paesi terzi non soltanto nel commercio intracomunitario voi ben sapete che normalmente l'importazione è gravata da un costo e il costo è dato dal dazio doganale affinché il bene straniero entri sul mercato quindi se l'Unione Europea acquista protezione civile italiana acquista mascherine dalla Cina bene si applica un dazio doganale all'ingresso di questi prodotti cinesi nel mercato italiano o nel mercato dell'Unione Europea proprio per evitare come dire un sovraccarico di costi sulle strutture sulle autorità nazionali che si trovavano come dire a raccogliere sui mercati internazionali questi beni allora prima gli stati ma poi anche l'Unione Europea la Commissione Europea nuovamente con le sue decisioni ha adottato degli altri interventi per cui ha deciso di sospendere l'applicazione per un periodo temporaneo di tutti i dazi doganali applicati alle importazioni di presidi sanitari e di presidi medici questo l'hanno fatto prima gli stati l'Italia è stata una dei primi stati le autorità doganali sono state tra le prime a aver previsto la sospensione del pagamento dei dazi doganali dopodiché è intervenuta un'autorizzazione da parte della Commissione Europea e qui nuovamente il sistema dell'Unione Europea ritornando al tema della preparedness della preparazione ha mostrato anche di essere particolarmente particolarmente efficace questa procedura di sospensione come dire è prevista già dal regolamento doganale dell'Unione Europea quindi è stato abbastanza semplice per le nostre autorità intervenire tuttavia vi è un secondo problema quando si importano questi particolari beni tutti noi un po' ci siamo abituati a queste nomenclature FFP2 che fino a 8 mesi fa io ignoravo completamente KN95 se le mascherine vengono dagli Stati Uniti cosa ci indicano questi ci indicano che questi beni questi prodotti come dire sono immessi sui mercati se soddisfano alcune caratteristiche tecniche se una mascherina ci sia scritto KN95 significa in linea di principio poi sono un discorso molto più complesso che quella mascherina può essere venduta nel mercato americano se c'è scritto marchio CE seguito da un numero che in questo momento non ricordo vuol dire che quella mascherina può essere venduta sul mercato dell'Unione Europea quindi la vendita di questi beni cioè questi beni per poter essere collocati sul mercato dell'Unione Europea devono soddisfare alcune caratteristiche tecniche che assicurino la sicurezza di colui che lo utilizza e che come dire assicurino la protezione dal rischio per il quale quelle mascherine sono state create questo vale per tutti i dispositivi medici sanitari allora nel momento in cui l'Unione Europea ha dei requisiti tecnici che sono diversi da quelli che ad esempio ha la Cina questo cosa significa? significa che le mascherine cinesi non possono essere vendute sul mercato dell'Unione Europea a meno che l'Unione Europea non riconosca la validità dei requisiti tecnici rispettati dalle mascherine cinesi o dalle mascherine americane quindi all'interno della Commissione Europea ci si è resi conto che per far fronte a questa enorme domanda di questo tipo di dispositivi era necessario intervenire non soltanto sospendendo il pagamento dei tazzi doganali ok un minor costo per le amministrazioni publie ma era necessario come dire intervenire anche per quanto riguardava l'applicazione delle regolamentazioni tecniche perché ogni qualvolta le autorità doganali fossero state chiamate a verificare se le mascherine provenienti dalla Cina o da un qualsiasi altro Stato rispettavano le regolamentazioni tecniche dell'Unione Europea bene tutta la procedura doganale sarebbe stata estremamente più complicata estremamente più lunga più lunga in termini in termini in termini tempistiche proprio quanto dire allora qui come dire come si è intervenuti su questo particolare in questo particolare settore la normazione tecnica dell'Unione Europea è abbastanza particolare ha delle sue caratteristiche gli standard tecnici sono elaborati da un comitato che è chiamato Comitato Europeo di Normazione elabora quelle che vengono chiamate le specifiche tecniche dei prodotti inclusi prodotti sanitari prodotti medici beni presidi medici bene il Comitato Europeo di Normazione ha reso pubbliche le specifiche tecniche normalmente le specifiche tecniche sono elaborate ma sono vendute ai produttori cioè se un produttore cinese vuole produrre mascherine che vengano collocate sul mercato dell'Unione Europea bene deve acquistare dal Comitato Europeo di Normazione la specifica tecnica in maniera tale di poter realizzare il prodotto come richiesto dall'Unione Europea bene il Comitato Europeo di Normazione ne ha reso pubbliche queste specifiche tecniche in maniera tale che potessero essere immediatamente accessibili da parte di qualsiasi produttore qualsiasi produttore che fosse interessato e quindi questo come dire ha in qualche modo consentito di arginare anche un'ulteriore difficoltà questa volta non di tipo fiscale dazio-doganale ma di tipo come dire tecnico per quanto riguarda l'immissione sul mercato dell'Unione Europea dei presidi medici presidi medici e sanitari secondo punto i vaccini era il secondo punto sul quale volevo volevo intrattenervi qualche minuto allora Susanna ha fatto riferimento appunto prima come questa strategia europea sui vaccini alla quale accennato è stata finanziata tramite l'emergency support instrument lo strumento di sossegno di emergenza che ha come dire investito una considerevole parte di quei 2,7 miliardi di euro per concludere accordi con i paesi produttori scusate con le sei imprese le sei società farmaceutiche che producono che stanno producendo i vaccini per il covid 19 questo come dire questo finanziamento che è stato erogato dall'Unione Europea queste sovvenzioni che sono state erogate dall'Unione Europea sono collegate alla conclusione di contratti come ricordava Susanna sono sei contratti che sono stati conclusi contratti che sono stati conclusi direttamente dalla Commissione Europea sono stati negoziati e conclusi sono dei contratti di appalto delle gare di fornitura però sono delle gare di fornitura ristrette in cui viene individuato il fornitore quindi non è una vera e propria gara d'appalto sono stati conclusi dalla Commissione Europea per i 28 Stati membri qual è il vantaggio di questo tipo di procedura il vantaggio è primariamente come dire in termini economici perché capirete che il negoziato che viene condotto dalla Commissione Europea per un mercato di 300 milioni di persone può avere degli esiti molto favorevoli molto più favorevoli rispetto a un negoziato per un contratto che viene concluso tra l'autorità italiana o tra l'autorità francese solo per il mercato italiano o solo per il mercato francese quindi un mercato come dire numericamente molto più limitato non 300 milioni ma 60 milioni 60 milioni di consumatori questa procedura di appalto congiunto era stata introdotta dall'interno dell'Unione Europea dopo la crisi suina dell'influenza suina dell'H1N1 e come dire è stata attuata anche 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 in questo caso ha trovato applicazione anche anche in questo caso qui però sorge nuovamente un altro problema ma rinvocando nuovamente lo spirito di solidarietà internazionale dell'Unione Europea posso che questo questo principio di solidarietà internazionale non è nei trattati così articolato come la solidarietà all'interno dell'Unione perché il problema che adesso abbiamo è che questi vaccini certamente come dire personalmente io non vedo l'ora di farlo spero che la maggior parte della popolazione non veda l'ora non veda l'ora non veda l'ora di farlo ma comunque noi vi avremo accesso sarà una nostra scelta poi decidere se farlo oppure no bene rischiamo però di trovarci una situazione in cui molti paesi come dire pur volendolo fare persone non potranno farle perché non hanno accesso semplicemente al vaccino giusto qualche giorno fa è uscita sui giornali la notizia sulla distribuzione mondiale del vaccino a seguito della conclusione di questi contratti cioè il rischio è che la produzione venga destinata primariamente all'Unione Europea agli Stati Uniti a altri grandi altri grandi commettenti invece alcuni paesi in che di sviluppo l'Africa subsahariana o quant'altro si trovano invece si trovano invece scoperte per cui ecco l'Unione Europea cosa ha fatto fino ad oggi su questo ambito il mio giudizio come dire un po' poco perché ha destinato solamente 100 milioni di euro all'iniziativa COVAX che è un'iniziativa che viene condotta nell'ambito dell'alleanza Gavi l'alleanza Gavi è un'alleanza che coinvolge alcune istituzioni internazionali l'ONU l'OMS finanziata dalla fondazione di Bill Gates e la Moiv per la diffusione dei vaccini su scala mondiale in particolar modo per garantire l'accesso ai vaccini nei paesi in via di sviluppo 2,7 miliardi da destinare all'emergency support di un strumento contro 100 milioni di dollari da destinare invece a Gavi e a COVAX l'alleanza mondiale per i vaccini quindi una volta che probabilmente come dire la situazione all'interno dell'Unione Europea sarà un po' più un po' più agevole un po' più semplice probabilmente dovremo occuparci molto di più prima di parlare sono andata a guardare sul sito dell'OMS qual è la diffusione del Covid-19 ad oggi registrata nei paesi dell'Africa subsahariana i numeri sono incredibilmente più bassi rispetto rispetto a quelli che sono registrati in Europa ci si può chiedere se questo è veramente a casa di una scarsa diffusione del virus oppure se non sia dovuto semplicemente a delle difficoltà di tracciamento del virus che vi sono all'interno di questi paesi ultimo punto ultimo punto bene una volta che ci sarà il vaccino il vaccino proviene prodotto dalle società farmaceutiche le società farmaceutiche hanno una caratteristica che si mettono un brevetto sopra e quel brevetto assicura alle varie società farmaceutiche che si tratti di Sanofia Ventis che si tratti di Pfizer o di AstraZeneca comporta che solamente quella società ha il diritto di commercializzare quel vaccino sul mercato qualsiasi commercializzazione che avviene da parte di un soggetto non autorizzato dal produttore è illegittima e dà luogo a una serie di sanzioni bene in base ad alcuni accordi commerciali gli stati sono obbligati a tutelare i brevetti la tutela dei brevetti deve durare almeno 20 anni questo significa che per 20 anni Pfizer sarà l'unica che potrà commercializzare il suo vaccino nell'Unione Europea o qualsiasi stato che partecipa agli accordi commerciali di cui vi dico sono 160 gli stati che partecipano a questi accordi commerciali allora come dire il ragionamento che può essere fatto dice ok ha avuto la sovvenzione dall'Unione Europea poi c'è il brevetto vedremo un po' come questa distribuzione come dire di un bene pubblico come il vaccino potrà andare avanti alcuni paesi in via di sviluppo però sono molto sensibili alla problematica dei brevetti sui vaccini sui farmaci in generale anche sui brevetti sui vaccini per cui in seno all'organizzazione mondiale del commercio due grossi paesi in via di sviluppo l'India e il Sudafrica che sono anche tra i paesi in via di sviluppo quelli che hanno il più elevato numero di contagio da Covid-19 questi due paesi hanno proposto di sospendere l'applicazione di quest'obbligo di protezione ventennale per tutti i vaccini e tutti i farmaci che verranno posti sul mercato per prevenire contenere e trattare la pandemia da Covid-19 e sostanzialmente verrebbe accadere per un periodo di tempo quest'obbligo di protezione del brevetto sui vaccini con la conseguenza che chiunque come dire può essere autorizzato a commercializzare sul mercato anche il vaccino prodotto per il quale oggi il brevetto lo ha Pfizer o più avanti lo avrà Sanofia Ventis o quant'altro quanto dovrebbe durare questa sospensione? Dovrebbe durare questa proposta il numero di anni non è detto ma si dice fin tanto che la maggioranza della popolazione mondiale avrà raggiunto l'immunità da Covid-19 quindi è chiaro che è un'iniziativa che viene presa a sostegno degli sforzi all'interno dei paesi in via di sviluppo dei grandi paesi in via di sviluppo per come dire consentire un facile accesso al vaccino da parte della popolazione a costi anche più bassi rispetto a quelli qual è stata la reazione da parte di altri stati non è che sia stata particolarmente positiva insieme all'organizzazione mondiale del commercio quando si fa una proposta e altri stati cominciano a chiedere informazioni ai proponenti questo significa che il dibattito andrà avanti per lungo tempo però sempre ritornando un po' a quello spirito di solidarietà internazionale che potrebbe anche animare le politiche dell'Unione Europea probabilmente anche un'attenzione rispetto a questa problematica potrebbe essere potrebbe essere potrebbe essere potrebbe essere essere posta quindi ho avuto un po' qua dovuto un po' modificare il mio intervento in corso d'opera spero di essere stata abbastanza chiaro ovviamente qualsiasi domanda sono a disposizione grazie mille grazie mille Giovanna e direi che potremmo celermente aprire lo spazio appunto per le domande del pubblico del pubblico del nostro vasto pubblico che resiste direi nonostante lo sporamento e vi è una domanda per Emanuele Sommario che riguarda se i diritti internazionali dei diritti umani se i diritti umani la traduco diciamo in modo un po' più ampio perché può essere utile anche sotto altri profili se i diritti umani possano offrire una guida rispetto all'operato del personale sanitario impegnato nella risposta all'emergenza da covid-19 è una domanda posta da Elvira non so il cognome quindi è per te Emanuele grazie infinite ma certamente ci sono alcuni principi di diritto internazionale dei diritti umani penso ad esempio al principio di non discriminazione che impongono appunto di intervenire che sono poi anche i principi se ci pensate della croce rossa internazionale perché il principio di non discriminazione altro non è per certi versi che una traduzione in termini diciamo giuridici del principio di imparzialità cioè tu intervieni laddove è necessario intervenire con maggiore urgenza a prescindere da ogni considerazione che riguardi appunto sesso razza lingua opinione politica via discorrendo cioè l'idea che uno intervenga basato solo e soltanto sul bisogno è un'idea che è assolutamente un'espressione del diritto internazionale dei diritti umani che deve secondo me e in effetti informa l'azione del personale medico diciamo di qualsiasi paese per quel che riguarda diciamo gli aspetti più relativi al covid l'altra cosa che mi viene in mente è che dunque l'articolo 7 del patto per i diritti civili e politici proibisce espressamente la sperimentazione medica non volontaria e la considera diciamo al pari il trattamento inumano e degradante quindi come dire chi dovesse appunto impegnarsi ad esempio nella sperimentazione per per il vaccino ovviamente dovrebbe tenerne conto ma da quello che capisco tutti quelli che si sono prestati a far diciamo fungere da cavi e lo hanno fatto in maniera volontaria quindi non sarebbe un esperimento forzato diciamo ma sarebbe una cosa però ovviamente sì la risposta è che i diritti umani sono fondamentali nell'informare direi tutta la risposta ai disastri in generale incluso al covid-19 non so se ho risposto ma spero di sì grazie Emanuele vi è una domanda anche per Danilo Bilotta da Riccardo Luporini che saluto con calore Luporini chiede se è possibile per quanto sia possibile approfondire le modalità la misura in cui nella fase iniziale di risposta alla pandemia il meccanismo di protezione civile dell'Unione non sia riuscito a soddisfare le richieste italiane Sì grazie grazie della domanda diciamo che la questione si risolve abbastanza semplicemente nel senso che ad una richiesta lanciata alla comunità internazionale attraverso il meccanismo europeo di protezione civile diciamo in questo caso la comunità di stati che fanno parte del meccanismo che come probabilmente sapete è un po' più ampia dei 28 stati membri ma include anche dei paesi potenziali candidati e dei paesi dello spazio economico europeo non abbiamo purtroppo ricevuto alcuna 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 offerta quindi diciamo in questo senso il meccanismo non ha saputo in quelle fasi iniziali saputo far fronte ad una richiesta che veniva da un paese diciamo che è stato da sempre contributore di questo meccanismo e che si trovava in una situazione di estrema difficoltà ovviamente è chiaro che non è ben nota che questa situazione interessava a tutti gli stati membri poi abbiamo ascoltato anche interessantissime anche interessantissime interventi degli altri relatori in particolare dalla professoressa di Nofi quanto ci fossero anche delle difficoltà imposte a livello commerciale dell'esportazione di alcuni beni però ecco questo è un elemento diciamo di iniziale difficoltà del meccanismo e questo stesso elemento posso aggiungere è stato riconosciuto come tale dalla stessa Commissione Europea che proprio su questo tema ha impostato una la propria azione di riforma del meccanismo stesso quindi cercando diciamo di ampliare per esempio il il bacino delle risorse che potranno essere inserite come diceva la dottoressa Vigani all'interno di Reschie e poi vabbè c'è forse un aspetto magari meno tangibile che è quello politico che a cui è stato fatto cenno e che abbiamo potuto constatare anche a livello diciamo meno alto quindi al di là delle parole della ragazza che sono state evocate ma diciamo anche a livello più tecnico non c'è stata inizialmente almeno quella afflato solidaristico che poi invece piano piano come spiegavano anche gli altri regatori si è poi manifestato e ha raggiunto anche un picco importantissimo come poi insomma ho cercato anche di far vedere con alcune immagini con e con alcune alcune e con quella tabella che rappresentava solo diciamo ripeto l'offerta in termini medici e di squadre sanitarie poi c'è tutto l'offerta invece in termini materiali che non ho potuto rappresentare grazie ti ridò la parola grazie Danilo in realtà vi è una successiva domanda sempre per te quindi puoi lasciare il tuo microfono aperto e riguarda la questione della necessità a cui tu avevi fatto riferimento inclusa nel decreto Cura Italia dell'iscrizione nell'albo del paese di provenienza da parte del professionista del sanitario che viene impiegato sul nostro territorio nazionale la domanda riguarda come questa situazione come diciamo questa richiesta possa essere soddisfatta se il personale proviene da ordinamenti giuridici che non prevedono l'iscrizione all'albo sì allora questa è una questione forse che dovrebbe essere magari rivolta più agli addetti ai lavori diciamo ai giuristi in particolare perché diciamo dal nostro punto di vista era importante il risultato cioè che i medici in quel momento impiegati sul nostro territorio nazionale provenienti da stati terzi in particolare da Cuba e dagli Stati Uniti potessero 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 operare operare accanto ai nostri medici nei nostri ospedali sul nostro territorio nazionale e quindi attraverso questa autorizzazione temporanea concessa dalle regioni e province autonome ciò è stato reso possibile non conosco diciamo così le normative che regolano la professione medica in altri paesi ma ritengo che insomma in qualche tipo di iscrizione ad un albo o di riconoscimento della professione a livello diciamo di ordini professionali sia contemplato in tutti i paesi con i quali se non altro abbiamo rapporti diciamo di reciprocità e che quindi immaginiamo possano venire ad operare nel nostro paese grazie grazie Danilo io vedo che c'è un'altra domanda di Luca Colonna che anche saluto con tanto piacere in chat relativa al tema dell'ingerenza umanitaria e che potete tutti leggere nella chat Luca chiede appunto sul concetto di ingerenza umanitaria nei confronti di quegli stati che soprattutto all'inizio della pandemia hanno minimizzato l'impatto della stessa possa essere utilizzato e forse la dirigerei a Giulio Giulio vuoi riprendere quello che diceva Danilo e forse dare una risposta alla domanda di Luca sul punto di Danilo sì la norma del decreto puretale parlava appunto come si diceva di un'istanza che arrivano da un certo tipo di iscrizione all'albo del paese di provenienza ma chiaramente questo è da intendersi con la necessità che comunque i soggetti devono presentare una certificazione di varia natura c'è un formulario predefinito rispetto al fatto che loro siano in grado di esercitare la professione medica nel loro paese di appartenenza e quindi è una procedura estremamente semplificata rispetto al meccanismo altrimenti previsto in Italia che era una delle carenze che si era anche sottolineata al tempo in cui si era fatto il rapporto ADRL report sull'Italia in cui si era già a suo tempo evidenziato come in caso di ingresso di personale sanitario in Italia per un'emergenza occorreva derogare rispetto alla normativa nazionale che in parte si era già utilizzata anche in altri contesti l'altro caso fu quando si permise il funzionamento di un'equipe medica brasiliana in una nave italiana operante nell'emergenza di Haiti in cui in quel caso lì fu un'ordinanza del capo di protezione civile a derogare ad alcune norme interne compreso un regio decreto che limitava questa possibilità che in questo caso sia ricorso ad una procedura di emergenza e magari in un'ottica di lessor learn potrebbe essere interessante con protezioni civile riragionare su quali ulteriori rimature il sistema italiano avrebbe probabilmente bisogno in presenza di un potenziale ulteriori ricorsi a queste misure comunque è stata una soluzione piuttosto funzionale a me è parza di capire e che ha permesso facilmente l'operatività del personale in un'ottica di efficienza per quanto riguarda l'altra domanda di Luca Colonna avete capito bene anche dalla stessa modalità in cui opera anche il da un lato il regolamento sanitario internazionale ma come ha funzionato anche l'attivazione e il ruolo del Consiglio di Sicurezza è ovviamente impossibile ipotizzare delle particolari misure o strumenti di diritto internazionale come strumenti come l'ingerenza umanitaria di proteggere per agire in questo contesto basta pensare che quando anche il Consiglio di Sicurezza ha preso in mano la discussione del tema è stata una discussione molto tarde rispetto a quando si è evidenziata la situazione di specie ma per motivi molto banali di divergenze fra gli stati su alcune frasi da reportare all'interno delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che già volevano attribuire una responsabilità ad alcuni stati piuttosto che ad altri e che quindi chiaramente ha determinato nell'ambito del Consiglio di Sicurezza una situazione di forte stallo quindi è molto complesso ipotizzare una particolare strumenti o istrui giuridici già anche abbastanza incerte come l'ingerenza umanitaria da applicarsi in questo contesto sarà forse più interessante cercare di capire alla luce di questa emergenza quali migliorie l'intero sistema tanto qui dall'OMS ma abbiamo già visto molte ipotesi di riforma anche nel sistema unionale eccetera possono possono presentarsi un'altra notazione tecnica invece che poi chiudo è che poi le registrazioni dei webinar dovrebbero poi prossimamente essere disponibili anche nel sito di Croce Rossa dove abbiamo risolto ora alcuni elementi anche connessi alla privacy e quindi poi saranno disponibili a tutti o in qualche modo insomma tramite il sito di Croce Rossa Grazie Giulio sì io penso che a questo punto possiamo anche chiudere direi che la diciamo speranza che quanto ci siamo detti oggi possa essere disponibile pubblicamente c'è perché credo che questo seminario sia stato veramente interessante approfondito e abbia risposto ad alcune delle questioni che più pressanti si pongono in materia di rispetto alla appunto pandemia da Covid-19 e diritto internazionale dei disastri io sono stata veramente molto felice di rincontrare non soltanto i relatori ma di rivedere tante facce visi conosciuti che sono una consuetudine annuale nei convegni di Croce Rossa e con l'augurio di rivederci dal vivo tutti i vaccinati come diceva Giovanna l'anno prossimo vi saluto e dichiaro chiusi i lavori di questo webinar grazie ancora alla Croce Rossa e ai relatori grazie 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 a voi un caro saluto ciao a tutti tanti saluti e buon Natale buone feste grazie a tutti buone feste arrivederci un saluto a tutti non abbassate la guardia ciao a tutti